Edda di Snorri Sturluson Letto dagli audiolibri dell'avido alchimista Se vi piace quest'opera e il modo in cui questo avido lettore la legge, beh, lasciatemi un mi piace e iscrivetevi al canale. Composta nella prima metà del XII secolo, l'Edda di Snorri costituisce uno dei principali monumenti della letteratura islandese medioevale e della tradizione della poesia scaldica. Testo fondamentale per la conoscenza del patrimonio mitologico, nordico e del credo religioso della Scandinavia pagana, nonché delle interazioni e tensioni tra paganesimo e cristianesimo. È un'opera sorprendente in cui rifulge lo straordinario talento di Snorri Sturluson. Non soltanto poeta, storiografo e studioso, ma anche abilissimo e affascinante narratore di miti e leggende. INGANNO DI GILFI 1. Re Gilfi governava delle terre nel luogo che ora si chiama Svezia. Di lui è detto che diede a un mendicante, in ricompensa per averlo intrattenuto, una misura di terra nel suo regno quanta quattro buoi potessero arare in un giorno e una notte. Ma questa era una donna della stirpe degli Asi e aveva nome Ghefion. Ella prese quattro buoi dal nord, da Jotunheim. Essi erano figli suoi e di un gigante e li alloggiò nell'aratro. Ma l'aratro avanzò con tale forza e così in profondità che la terra si staccò e i buoi trascinarono quella terra fuori, sul mare e verso occidente e si fermarono in uno stretto. Là Ghefion pose la terra e le diede nome e la chiamò Gjelland e là dove la terra era venuta via ci fu in seguito un lago. Questo ora è detto Logrin in Svezia. E così le baie in Logrin corrispondono ai promontori di Szeland. Così dice il poeta Bragi il Vecchio. Ghefion guidò l'aratro lontano da Gilfi. Fece per il sole del mare così che le bestie da tiro fumavano e la Danimarca si ingrandì. I buoi avevano anche otto lune dalla fronte quando andarono dall'isola verso l'ampio suolo di conquista e quattro teste. Due. Re Glifi era un uomo saggio e conoscitore di magie. Egli si meravigliava molto che il popolo degli Asi fosse così sapiente che tutte le cose andavano secondo il loro volere. Considerava se ciò dipendesse dalla loro propria natura o se in ciò avessero potere le divinità che essi adoravano. Egli intraprese un viaggio verso Asgard e viaggiò in incognito e si trasformò assumendo l'aspetto di un uomo vecchio e così si dissimulò. Ma gli Asi erano ben più saggi perché possedevano il dono della preveggenza ed essi videro il suo viaggio prima che egli arrivasse e prepararono per lui delle illusioni ottiche. E quando entrò nella fortezza allora vide una sala alta tanto che a malapena poteva vederne la sommità. Il suo tetto era coperto di scudi dorati a modi assi così dice Piotolf di Gvinir che il Valhalla era ricoperto di scudi. Sul dorso fecero balenare colpiti erano dalle pietre le cortecce di Betulla della sala di Sfavnir i guerrieri sagaci. Ghilfi vide un uomo nel vano della porta della sala che giocava con dei pugnali e ne teneva sette per aria contemporaneamente. Questi anzitutto gli domandò il nome. Egli disse di chiamarsi Gangleri ed essere venuto per sentieri intricati. Chiese un ricovero per la notte e domandò chi possedesse la sala. Egli rispose che quello era il loro re. E io posso accompagnarti a vederlo? Tu stesso domanderai il suo nome. E quell'uomo si volse ed entrò davanti a lui nella sala. Egli lo seguì e subito la porta si chiuse alle sue spalle. Là egli vide molti ambienti e molta gente. Alcuni giocavano, alcuni bevevano, alcuni con armi si battevano. Allora si guardò attorno e molte delle cose che vide gli parvero incredibili. Allora parlò. Tutti gli ingressi, prima che si entri, devono essere guardati con attenzione perché non si può sapere dove i nemici siedano di già sulla panca. Egli vide tre troni uno sopra l'altro e ivi sedevano tre uomini, ciascuno nel proprio. Allora domandò quale fosse il nome dei capi. Quello che lo aveva condotto dentro rispose che quello che sedeva nel trono più basso era il re e si chiamava Har. Ma quello là accanto si chiamava Yafnhar e quello che stava più in alto si chiamava Prithi. Allora Har domandò al nuovo venuto se avesse altre incombenze e aggiunse che cibo e bevande erano a sua disposizione come per tutti là nella sala di Har. Egli disse che per prima cosa voleva domandare se là dentro ci fosse un uomo sapiente Har disse che egli non avrebbe potuto uscire di là sano e salvo se non fosse più sapiente di loro e resta in piedi mentre domandi sedere dovrà quello che racconta. Tre Gangleri cominciò così il suo discorso. Chi è il più eminente è il più anziano di tutti gli dèi. Har disse. Questi si chiama Al-Fadar nella nostra lingua ma nell'antico Asgard egli aveva dodici nomi. Uno è Al-Fadar il secondo è Herran o Herian il terzo è Nikar o Nikar il quarto è Nikuts o Nikuothr il quinto è Fjolnir il sesto è Oske il settimo Omi L'ottavo Biflioti o Biflindi il nono è Sviothar il decimo è Sviothrir l'undicesimo è Vitrir il dodicesimo Jalg o Jalkr Allora Gangleri domandò Dov'è questo Dio? Qual è il suo potere? Quali grandi imprese ha compiuto? Har disse Egli vive in tutte le ere e governa tutto il suo regno e regge tutte le cose grandi e piccole Allora parlò Jafn-Har Egli ha forgiato il cielo e la terra e l'aria e tutto ciò che essi contengono Allora parlò Prithi La cosa più grande è che Egli fece l'uomo e gli diede un'anima che vivrà e non perirà mai sebbene il corpo decada in polvere o bruci fino a diventare cenere E tutti gli uomini vivranno quelli diretti costumi e saranno con lui medesimo nel luogo che si chiama Gimle o Vingolf ma gli uomini malvagi andranno in Hel e di là in Niflhel cioè sotto nel nono mondo Allora parlò Gangleri Che cosa faceva egli prima che il cielo e la terra fossero creati Allora Har rispose Egli era allora con i giganti della brina 4 Gangleri parlò Quale fu l'inizio come cominciò e che cosa c'era prima Har rispose Così come dice nella predizione dell'indovina Era l'inizio dei tempi quando nulla era Non c'era sabbia né mare né fresche onde La terra non c'era né il cielo lassù C'era Ginnungagap ma non c'era l'erba Allora parlò Jaffanhar Fu molte ere prima che la terra fosse creata che Niflheim fu fatto e in mezzo a esso c'è la fonte che si chiamava Fergelmir e da là scatturirono i fiumi che così si chiamavano Svol Gunfra Fjorm Fimbulfum Sjolthr e Rith Silgr Ilgr Vith Leiptr Gjol e il più vicino a Helgrindr Allora parlò Priethi Prima di tutto tuttavia c'era nella parte meridionale quel mondo che si chiama Muspel Esso è luminoso e caldo Quella regione è fiammeggiante e ardente ed essa è inadatta a quelli che vi sono stranieri e non hanno la origine Sjolthr Sjolthr si chiama quello che sta là di guardia al confine egli ha una spada fiammeggiante e alla fine del tempo verrà e devasterà e sconfiggerà tutti gli dèi e incendierà tutto il mondo con il fuoco così dice nella predizione dell'indovina Sjolthr procede da meridione con la rovina dei virgulti risplende la spada il sole degli dèi guerrieri i macigni precipitano con fragore e crollano le gigantesse gli uomini percorrono Elvegr e il cielo si squarcia 5 Gangleri parlò quali cambiamenti avvennero prima che le stirpi apparissero o la popolazione umana fosse accresciuta allora parlò Har quando quei fiumi che hanno nome Elivagar furono giunti così lontano dalla sorgente che il fermento velenoso che trascinavano si indurì come scoria che esce dal fuoco allora si formò del ghiaccio e quando questo ghiaccio si arrestò e non scorreva più da quella parte la pioggerella che emanava dal veleno si fermò sopra e congelò in brina e la brina crebbe uno strato sull'altro fino a Ginnungacap allora parlò Yathnhar Ginnungacap là dove volgeva verso Settrentrione si riempì di una massa pesante di ghiaccio e brina e di là verso l'interno arrivavano pioggerella e vento ma la parte meridionale di Ginnungacap era alleggerita in direzione delle scintille e faville che volavano via da Muspelheim allora Priovi parlò così come il freddo e tutto ciò che è fosco provenivano da Niflheim parimenti ciò che volgeva verso Muspelheim era caldo e luminoso ma Ginnungacap era mite come aria senza vento e quando la brina e la brezza del calore si incontrarono così che essa si sciolse e gocciolò da quelle gocce stillanti si formò la vita con la potenza di quello che aveva mandato il calore e apparve una forma d'uomo e questi ebbe nome Imir ma i giganti della brina lo chiamano Aurgelmir e di là sono venute le stirpi dei giganti della brina così come dice nella predizione dell'indovina breve tutte le indovine da Vizolfr tutti i maghi da Vilmaithr ma gli stregoni da Svartalfoy tutti i giganti da Imir sono venuti e qui dice così il gigante Vaf Pruthnir da dove venne Aurgelmir con i figli dei giganti Savio gigante per primo dagli Eli Vagar scaturirono gocce di veleno e crebbe finché ne uscì un gigante di là le nostre stirpi tutte insieme provennero perciò per sempre la razza è spaventosa allora parlò Gangleri come crebbero di là le stirpi quali cambiamenti ci furono per cui comparvero più uomini e credi tu che fosse un dio quello di cui dicesti allora Har rispose per nulla noi ammettiamo che fosse un dio egli era malvagio e così tutti i suoi congiunti noi li chiamiamo giganti della brina e così è detto che mentre dormiva emise del sudore allora gli crebbero sotto il braccio sinistro un uomo e una donna e l'un piede generò con l'altro un figlio e di là vennero le stirpi cioè i giganti della brina il vecchio gigante della brina noi lo chiamiamo Ymir 6 allora parlò Gangleri dove abita Ymir di che viveva Har rispose subito dopo accadde quando la brina gocciolò che di là si formò la mucca che si chiamava Aothumla e quattro fiumi latte scorrevano dalle sue mammelle ed essa nutri Ymir allora parlò Gangleri con che cosa si nutriva la mucca Har rispose ella lecò le pietre di brina che erano salate e il primo giorno in cui leccò le pietre alla sera uscì dalla pietra la chioma di un uomo il giorno dopo la testa di un uomo il terzo giorno c'era là un uomo intero questi aveva nome Buri ed era bello d'aspetto grande e potente egli generò un figlio che si chiamava Bor egli ebbe in moglie la donna che si chiamava Besla figlia del gigante Bolporn ed egli ebbero tre figli uno si chiamava Odino il secondo Vili il terzo Beh e questa è la mia fede che questo Odino e i suoi fratelli saranno i governatori del cielo e della terra noi crediamo che egli debba chiamarsi così così si chiama l'uomo che noi sappiamo essere il più grande e il più eccellente e ben potete voi chiamarlo così Sette Allora parlò Gangleri Quale fu allora il loro accordo e quale fra le due parti era la più potente Allora Har rispose I figli di Bor uccisero il gigante Himir ma quando egli cadde sgorgò così tanto sangue dalle sue ferite che con esso affogarono tutta la stirpe dei giganti della Brina tranne uno solo che si salvò con la sua famiglia quello i giganti lo chiamano Bergelmir egli salì sulla sua imbarcazione e con lui sua moglie e là si salvò e da loro sono venute le stirpe dei giganti della Brina così come qui dice innumerevoli inverni prima che la terra fosse creata fu generato Bergelmir questo io innanzitutto ricordo quando quel salvio gigante fu posto sopra un'imbarcazione 8 allora Gangleri disse di che cosa si occupano allora i figli di Bor se tu credi che fossero dei Har disse non c'è poco da dire in proposito essi presero i mir e lo trasportarono nel mezzo di Ginnungap e fecero da lui la terra dal suo sangue i mari e i laghi la terra fu fatta dalla sua carne le montagne dalle sue ossa le pietre e i massi essi vennero fatte dai denti e dai molari e da quelle ossa che erano spezzate allora parlò Yafnhar da quel sangue che sgorgava dalle ferite e scorreva via essi fecero il mare con cui cinsero e tennero ferma la terra e posero il mare ad anello attorno ad essa ed esso parrà a più di un uomo impossibile da attraversare allora parlò Prithi essi ebbero anche il suo cranio e ne fecero il cielo e lo posero su sopra la terra con quattro canti e sotto ogni angolo posero un nano essi si chiamavano così austri vestri nordri sudri poi presero le faville e le scintille che volavano liberamente ed erano scagliate fuori da Muspelheim e le posero nel mezzo di Ginnungalimin sia sopra che sotto per illuminare il cielo e la terra essi diedero un posto a tutti i corpi luminosi ad alcuni in cielo altri volavano liberamente sotto la volta del cielo e tuttavia diedero loro un posto e stabilirono il loro corso così è detto nelle antiche conoscenze che da allora vennero distinti il giorno e la notte e il calcolo degli anni così come dice nella predizione dell'indovina il sole non sapeva dove avesse le sue sale la luna non sapeva quanta potenza avesse le stelle non sapevano dove avessero una sede così fu prima che fosse creata la terra allora parlò Gangleri questi sono grandi avvenimenti che io ora ascolto questa è un'opera straordinariamente grande e fatta abilmente in qual modo fu fatta la terra allora Har rispose essa è rotonda esternamente e là fuori giace il profondo mare e lungo la riva del mare essi diedero una terra da abitare alle stirpi dei giganti ma all'interno della terra essi fecero una fortezza tutto intorno al mondo per via dell'inimicizia dei giganti e per quella fortezza utilizzarono le ciglia del gigante Ymir e chiamarono quella fortezza Mivgardr essi presero anche il suo cervello e lo gettarono in aria e ne fecero le nubi così come qui dice dalla carne di Ymir fu fatta la terra e dal sangue il mare le montagne dalle ossa gli alberi dalla chioma e dal cranio il cielo e dalle sue ciglia fecero gli dei clementi Mivgardr per i figli degli uomini e dal suo cervello furono tutte le minacciose nubi create 9 allora parlò Gangleri grandi cose mi pare che essi abbiano compiuto quando la terra e il cielo furono fatti e il sole e i corpi celesti furono collocati al loro posto e suddivisi il giorno e la notte ma da dove vennero gli uomini che abitano il mondo allora Har rispose quando i figli di Bor andarono lungo la spiaggia del mare trovarono due alberi e li raccolsero e ne crearono gli uomini il primo diede loro spirito e vita il secondo intelletto e movimento il terzo forma parola e udito e vista diedero loro anche vesti e nome l'uomo si chiamò Askar e la donna Embla e di là fu generata la stirpe degli uomini cui fu data dimora al riparo di Mithgarver subito dopo essi fecero per sé una fortezza al centro del mondo che si chiamava Askarver quella noi la chiamiamo Troia là abitarono gli dèi e le loro stirpi e a partire da allora divennero molti eventi e dispute sia in terra che in cielo là c'è un luogo che si chiama Lithskjalf quando Odino si sedeva là sul trono allora vedeva tutti i mondi e il comportamento di ogni uomo e comprendeva tutte le cose che vedeva sua moglie si chiamava Frigg figlia di Fjordgiven e dalla loro stirpe è venuta quella progenie che noi chiamiamo stirpi degli asi che hanno abitato l'antico Asgard e quei regni che vi appartengono quella è tutta una stirpe di discendenza divina e perciò egli può ben chiamarsi Al-Father poiché egli è il padre di tutti e perciò egli può ben chiamarsi Al-Father poiché egli è il padre di tutti dei e uomini e di tutto quello che da lui e dalla sua potenza fu portato a compimento Yorth era sua figlia e sua sposa da lei ebbe il suo primo figlio cioè Asapor ed egli ebbe innati forza e vigore perciò supera tutti gli esseri viventi 10 Norfi o Narfi si chiamava un gigante che abitava in Jotunheim egli aveva una figlia che si chiamava Not era nera e scura secondo la sua stirpe ella fu sposata a quell'uomo che si chiamava Naglfari il loro figlio si chiamava Outer subito dopo ella fu sposata a quello che si chiamava Anar La loro figlia si chiamava Yorth in ultimo La ebbe in moglie Dell'Inger egli era della stirpe degli asi il loro figlio fu Dagr era luminoso e bello come suo padre allora Alfather prese Not e Dagr suo figlio e diede loro due cavalli e due carri e li mise su nel cielo affinché essi cavalcassero ogni dodici ore attorno alla terra Not cavalca per prima con quel cavallo che si chiama Rinfaxi e ogni mattina egli irrora la terra con la bava che gli bagna il morso Il cavallo di Dagr si chiama Skinfaxi e tutta l'aria e la terra sono illuminate dalla sua criniera Undici Allora parlò Gangleri Come governa egli il corso del sole e della luna? Har disse Un uomo che ha nome Mundilferi aveva due figli Essi erano così belli e avvenenti che egli chiamò l'uno Mani e sua figlia Sol e la diede in moglie all'uomo che si chiamava Glenner ma gli dei furono irritati dalla sua presunzione e presero quei due fratelli e li posero su nel cielo fecero guidare a Sol i cavalli che tiravano il carro del sole che gli dei avevano creato per illuminare i mondi da una scintilla che volava via da Muspelheimer quei cavalli si chiamano così Ar-Vakr e Al-Sviothor ma sotto le spalle dei cavalli gli dei misero due mantici per rinfrescarle e in taluni carmi antichi questo è detto fresco di ferro Mani governa i movimenti della luna e stabilisce il Novilunio e il Plenilunio egli prese dalla terra due fanciulli così si chiamano Bill e Yuki quando essi si allontanavano dalla fonte che si chiamava Birgir e portavano sulle spalle il secchio che si chiamava Sogr e la stanga Simul Vithfinr ha nome il loro padre questi fanciulli seguono Mani come si può vedere dalla terra 12 allora parlò Gangleri Sol procede veloce e quasi come se fosse spaventata e non potrebbe accelerare di più il cammino anche se temesse la morte allora Har rispose non è strano che proceda speditamente vicino cammina quello che la insegue ed ella non ha altra via di scampo se non fuggir via allora parlò Gangleri chi è quello che le procura tale tormento Har disse sono due lupi e quello che va dietro di lei si chiama Skol di quello ella ha paura ed esso la prenderà ma quello che corre davanti a lei si chiama Hati figlio di Hroth Vitnir e prenderà luna e così sarà allora parlò Gangleri qual è la stirpe dei lupi Har disse una gigantessa abita a est di Midgard nella foresta che si chiama Yarnivithyr in quella foresta abitano le gigantesse che si chiamano Yarnivithyr ma la vecchia gigantessa genera per figli molti giganti e tutti in aspetto di lupo e di là sono venuti questi lupi e così è detto che da quella stirpe uno verrà potentissimo che si chiama Managarmr esso si sazia della linfa vitale di tutti gli uomini che muoiono e ingoierà la luna e schizzerà di sangue il cielo e tutta l'aria in seguito a ciò il sole perderà il suo splendore e i venti saranno inquieti e ululeranno da ogni parte così dice nella predizione dell'indovina a est dimora una vecchia in Yarnivother e là genera i figli di Fenrir tra tutti quelli uno diverrà distruttore della luna in abito di mostro si sazia della linfa vitale e degli uomini destinati alla morte arrossa la dimora degli dèi con rosso sangue nero si farà lo splendore del sole di estati venture le stagioni tutte nocive e voi ne sapete di più? 13 allora parlò Gangleri qual è la via dalla terra al cielo? allora rispose Har ridendo ora non è stata posta una domanda saggia non ti è stato detto che gli dèi fecero un ponte dalla terra al cielo che si chiama Bifrost? devi averlo visto può essere che tu lo chiami arcobaleno esso esso ha tre colori ed è molto robusto è fatto con arte e conoscenza più che altre opere e così robusto com'è pure rovinerà quando i figli di Muspel verranno e cavalcheranno su di esso e i loro cavalli nuoteranno nei grandi fiumi così avanzeranno allora parlò Gangleri non mi pare che gli dèi abbiano fatto il ponte in buona fede se potrà rovinare essi che possono fare quello che voglio allora parlò Har gli dèi non meritano Biasimo per quest'opera Bifrost è un buon ponte ma nessuna cosa c'è in questo mondo che potrà contare su sé e medesima quando i figli di Muspel devasteranno quattordici allora parlò Gangleri di che cosa si occupò al father quando Asgard fu fatto Har parlò all'inizio egli insediò dei governanti sul trono e chiese loro di stabilire con lui il destino degli uomini e decidere la sua disposizione della fortezza ciò fu nel luogo che si chiama Itha Woller nel mezzo della foresta quella fu la prima delle loro opere fare il tempio in cui fossero i loro troni dodici oltre all'alto trono che appartiene ad Al-Father quella costruzione è la migliore fatta sulla terra e la più grande tutto fuori e dentro di essa è come solo d'oro gli uomini dicono che in quel luogo c'è Glathshamer essi fecero un'altra sala essa era il santuario che possedevano le dee ed era splendida quella casa gli uomini chiamavano Vingolf subito dopo essi fecero questo posero le fucine e là fecero martello e pinze e incudine e poi tutti gli altri utensili e subito dopo forgiarono metallo e pietra e legno e così in abbondanza quel metallo che si chiama oro che tutti gli utensili di casa e tutte le suppellettili essi avevano d'oro e quell'età è detta età dell'oro prima che fosse dispogliata dall'arrivo delle donne esse vennero da Jotunheim subito dopo gli dèi si sedettero sui loro troni e tennero il giudizio e si ricordarono da dove i nani erano venuti alla vita nel suolo e giù nella terra come vermi nella carne all'inizio i nani si erano formati e avevano preso vita nella carne di Ymir ed erano allora vermi ma per pronunciamento degli dèi essi divennero partecipi dell'intelletto umano ed ebbero aspetto umano e tuttavia abitano nella terra e fra le pietre Moth Sognir era il più eminente il secondo era Durrin così dice nella predizione dell'indovina allora andarono gli dèi tutti agli scranni del giudizio gli dèi santissimi e di ciò deliberarono chi dei nani la famiglia dovesse creare dall'onda insanguinata e dalle gambe di Blain là in aspetto umano molti furono fatti nani nella terra come Durin disse e questi ella dice sono i nomi dei nani nani nini niti northri sutri austri vestri alpiofr dvalin nar nani naïn nipi nipigrn nipigrn dain bifur bafur bombur nori ori oinar oyn mioth vitnir vigr e gandalfr vindalfr piorin fili E anche questi sono nani e vivono fra le pietre, ma i precedenti nella terra. E questi vennero da Svarninshaugr, verso Augvar, in Jorvegljinn. E di là sono venuti i Lorvar. Questi sono i loro nomi. Scyrvir, Virvir, Skalfjothr, Ai, Alfr, Ingi, Eikinskjaldi, Farl, Frosti, Fidr, Jinnar. Quindici. Allora parlò Gangleri. Qual è il luogo più importante e il santuario degli dèi? Har rispose, esso è presso il frassino Yggdrasil. Là gli dèi ogni giorno devono tenere il giudizio. Allora parlò Gangleri. Che c'è da dire di quel luogo? Allora Jaffnarr disse Il frassino è il più grande e il migliore fra tutti gli alberi. I suoi rami si stendono sopra tutto il mondo e sovrastano il cielo. Tre radici dell'albero lo sostengono e sono molto estese. Una è fra gli asi. E la seconda fra i giganti della brina. Là dove un tempo c'era Ginnungagap. E la terza sta sopra Niflheimr. E sotto quella radice c'è Vergelmir. Ma Nithogr rosicchia la radice da sotto. E sotto la radice che volge verso i giganti della brina, là si trova Mimisbrunner, in cui sapienza e intelletto umano sono cerati. E quello che possiede la fonte si chiama Mimir. Egli è pieno di sapienza poiché beve dalla fonte col corno Gjallarhorn. Là venne Alfather e chiese un sorso dalla fonte, ma non lo ebbe prima che lasciasse impegno uno dei suoi occhi. Così dice nella predizione l'Indovina. Tutto io so, Odino, dove c'è l'asti l'occhio. In quella famosa fonte di Mimir. Mimir beve l'idromele ogni mattina dal pegno di Val Foder. E voi ne sapete di più? La terza radice del frassino si protende nel cielo e sotto quella radice c'è una fonte che è grande e santa che si chiama Urtharburner. Là gli dèi hanno il luogo della loro corte. Ogni giorno gli asi cavalcano là, sopra Bifrost. Esso si chiama anche Asbru. I cavalli degli asi si chiamano così. Sleipnir è il migliore. Odino lo possiede. Esso ha otto zampe. Il secondo è Glafer. Il terzo è Ghyllir. Il quarto è Glennir. Il quinto è Sclaithbrimir. Il sesto è Silfrintopr. Il settimo è Sinir. L'ottavo è Ghyls. Il nono è Falofnir. Il decimo, Gulltopr. L'undicesimo, Letfeti. Il cavallo di Baldur fu arso con lui. Ma Thor va alla corte a piedi e guada quei fiumi che così si chiamano Kormt e Ormt e i due Kerlaugar. Quelli deve guadare Thor ogni giorno. Quando va a giudicare presso il frassino Iggdrasil poiché Asbru arde tutto in fiamme. Ribollono per il calore le acque sacre. Allora parlò Gangleri. Arde del fuoco su Bifrost. Har disse Quel rosso che tu vedi nell'arco è fuoco che arde. Su nel cielo andrebbero i giganti della brina e i giganti delle montagne se a tutti quelli che lo vogliono fosse possibile transitare sul Bifrost. Molti luoghi in cielo sono belli e tutti sotto la protezione divina. Là c'è una bella sala sotto il frassino presso la fonte e da quella sala provengono tre fanciulle che si chiamano Urofer, Verthandi, Skuld. Queste fanciulle stabiliscono la vita degli uomini. Noi le chiamiamo Norne. Tuttavia ci sono più Norne quelle che si recano da ogni uomo che viene procreato per stabilirne la vita e quelle sono della stirpe degli dèi ma altre della famiglia degli elfi e un terzo gruppo della famiglia dei nani. Così come qui dice Di assai diversa origine io credo che siano le Norne esse non hanno medesima stirpe alcune sono parenti degli asi alcune sono parenti degli elfi alcune figlie di Dvalin. Allora parlò Gangleri Se le norme stabiliscono il destino degli uomini esse distribuiscono grande ingiustizia poiché alcuni hanno una vita buona e prospera ma alcuni hanno poca parte di beni e onori alcuni una vita lunga alcuni breve Har disse Le norme buone e di buona stirpe assegnano una vita buona ma quegli uomini che incontrano cattivo destino questo dipende dalle Norne cattive 16. Allora parlò Gangleri Quali altre cose ragguardevoli ci sono da dire sul frassino? Har disse Molto c'è da dire in proposito Un'aquila è appollaiata fra i rami del frassino ed essa è sapiente in molte cose e in mezzo agli occhi le sta un falco che si chiama Veth Follner uno scogliattolo che si chiama Ratatoskr corre su e giù lungo il frassino e riporta le parole ingiuriose tra l'aquila e Nith-Ogr e quattro cervi corrono fra i rami del frassino e brucano le foglie accuminate Essi si chiamano Dain Dvalin Duneir Durapror e così tante serpi ci sono in Vergelmir con Nith-Ogr e nessuna lingua può contare Così dice qui Il frassino Igrassil sopporta pene più di quanto gli uomini sappiano Il cervo lo bruca in alto e di lato marcisce dal di sotto Nith-Ogr lo consuma Così è detto Più serpi stanno sotto il frassino Igrassil di quanto creda qualche stupido sciocco Goin e Moin Essi sono figli di Graf-Temnir Grabkar e Graf-Vol-Uther Ofnir e Svavnir Io credo sempre debbano rodere i rami dell'albero Ancora è detto che le norne che dimorano presso la fonte di Urthr ogni giorno prendono acqua dalla fonte con l'argilla che sta intorno alla fonte e la versano sopra il frassino affinché i suoi rami non secchino ne marciscano E quell'acqua è così santa che tutte le cose che entrano nella fonte diventano bianche come quella pellicola che si chiama membrana che sta dentro il guscio dell'uovo Così come qui dice Io conosco un frassino che si chiama Igrassil Alto albero sacro Irrorato dalla bianca argilla Di là vengono le gocce rugiada che cadono nella valle Sta sempre verde sopra la fonte di Urthr Quella rugiada che di là cade sulla terra gli uomini la chiamano stilla di miele e di essa si nutrono le api Due uccelli vivono nella fonte di Urthr Essi si chiamano cigni e da quegli uccelli è venuta la specie di volatili che così si chiama 17 Allora parlò Gangleri Grandi cose tu sai dire del cielo Ci sono là altri luoghi importanti oltre la fonte di Urthr Har disse Molti luoghi là sono magnifici C'è un luogo che si chiama Halfheimer Là vive il popolo che si chiama Liossalfar Ma i Docalfar vivono giù nella terra ed essi sono diversi da loro nell'aspetto e molto più diversi nella realtà I Liossalfar nell'aspetto sono più belli del sole Ma i Docalfar sono più neri della pece Là c'è un luogo che si chiama Breithablik E là nessun luogo è più bello Là c'è anche quello che si chiama Glitnir E le sue pareti, le colonne e i pilastri sono d'oro rosso Ma il tetto è d'argento Là c'è anche il luogo che si chiama Iminbjörg Questo si trova al limite del cielo presso l'estremità del ponte Là dove Bifrost arriva in cielo Là c'è ancora un luogo grande che si chiama Valaschialf Odino possiede quel luogo Quello fecero gli dèi e lo ricoprirono con argento puro E là in quella sala c'è Liosschialf Il trono che così si chiama E quando Alfather siede su quello scranno Allora egli vede tutto il mondo All'estremità meridionale del cielo c'è questa sala che è la più bella di tutte e più luminosa del sole che si chiama Gimle Essa resterà allorquando sia il cielo che la terra saranno passati E quel luogo abiteranno gli uomini buoni e giusti di tutte le ere Così dice nella predizione dell'Indovina Lo so che c'è una sala più bella del sole migliore dell'oro in Gimle Là le schiere fedeli abiteranno e per sempre di felicità godranno Allora parlò Gangleri Che cosa proteggerà questo posto quando il fuoco di Surtr brucerà il cielo e la terra Har disse Così è detto che c'è un altro cielo a meridione È sopra questo cielo e quel cielo si chiama Andlangr E un terzo cielo c'è ancora sopra questi e quello si chiama Vithblain E noi crediamo che questo posto sia in quel cielo Ma noi crediamo che solo i Yosalfar abitino quei luoghi 18 Allora parlò Gangleri Donde viene il vento? Esso è così forte che scuote i grandi oceani e attizza il fuoco E forte com'è pure nessuno può vederlo poiché esso è fatto in modo mirabile Allora Har disse Questo posso dirtelo bene All'estremità settentrionale del cielo sta un gigante che si chiama Resvelgr Egli ha abito d'aquila e quando sbatte le ali per il volo allora sotto le sue ali sprigionano i venti Qui dice così Resvelgr si chiama quello che sta al limite del cielo Gigante in abito d'aquila Dalle sue ali Dicono che venga il vento sopra tutti gli uomini 19 Allora parlò Gangleri Perché c'è tanta differenza per cui l'estate debba essere calda e l'inverno freddo Har disse Ciò non dovrebbe domandare un uomo saggio Poiché questa cosa tutti sanno dire Ma se tu sei rimasto il solo tanto incolto da non aver udito ciò allora voglio tuttavia considerare meglio che tu per una volta faccia una domanda sciocca piuttosto che continuare a ignorare ciò che è necessario sapere Svasutr si chiama il padre di Sumar ed egli vive una vita felice così che dal suo appellativo è detto Svalekt ciò che è piacevole ma il padre di Vetr è chiamato ora Vindloni ora Finsvalr egli è figlio di Vassutr e quei congiunti erano rigidi ed animo freddo e Vetr ha il loro carattere 20 Allora parlò Gangleri Quali sono gli asi in cui gli uomini devono credere? Har disse dodici sono gli asi di stirpe divina Allora parlò Yafn Har Le asinie non sono meno sante ed esse non hanno minore potere Allora parlò Prithi Odino è il più eminente e il più anziano degli asi egli governa tutte le cose e per quanto gli altri dei siano potenti pure tutti gli rendono omaggio così come i figli col padre e Frigg è sua madre Ella conosce il destino degli uomini sebbene Ella non pronunci profezie così come è detto che Odino medesimo dichiarò a quell'ase che si chiama Loki Pazzo sei tu Loki e fuori di senno perché Loki non desisti il destino io credo che Frigg tutto conosca sebbene Ella medesima non dica Odino si chiama Al-Father perché egli è il padre di tutti gli dèi egli si chiama anche Val-Father poiché i suoi figli prediletti sono tutti quelli che muoiono fra i caduti a loro egli assegna La-Walhalla e Vingolf ed essi la si chiamano Ein-Heriar egli si chiama anche Hangaguth e Haptaguth Farmaguth e ancora egli si era nominato in molti modi quando era giunto dal re di Gary Hother mi chiamo Grimr e Gangleri Herian Yalmberry Peccr Prithi Puthr Uther Helblindi Har Svather Svipal Sangettal Heirater Nickar Blagr Balagr Bolverk Fjolnir Grimnir Glapsbjothr Fjolesbjothr Sithhotr Sithskegr Sighfotr Sighfotr Nukkorth Alfather Altrithr Farmatir Oski Omi Jaffenhar Biflindi Gondlir Harbathr Svithur Svithrir Jalkir Kjallar Vithur Pror Igr Pundr Vakr Skilvingr Vafutr Roptatir Gautr Veratir Allora Parlò Gangleri Tantissimi Nomi Gli avete Dato E io Credo In fede Mia Che debba Essere Una grande Sapienza Quella Che abbia Chiara Cognizione E possa Spiegare Quali Eventi Si sono Verificati All'origine Di ciascuno Di questi Nomi Allora Har Disse Grande Intelligenza Ci vuole Per spiegare Esattamente Ma tuttavia Per te È più spiccio Dire che la maggior Parte degli Appellativi Sono stati dati Dalla circostanza Che dal momento Che tante Sono le differenze Fra le lingue Del mondo A tutti i popoli È parso necessario Alterare il suo nome Secondo la propria Lingua Per l'invocazione E la preghiera In proprio favore Ma alcuni eventi Che hanno dato origine A questi appellativi Sono avvenuti Nel corso Dei suoi viaggi E ciò È riportato Nei racconti E tu non puoi Dirti Uomo saggio Se non sai Raccontare Di quei grandi Avvenimenti 21 Allora Parlò Gangleri Quali sono I nomi Degli altri Asi Di che cosa Si occupano E che cosa Hanno compiuto Per aver fama Har Disse Thor È fra essi L'Eminente Egli è detto Asapor Ocupor È il più forte Fra tutti Dei E uomini Egli possiede Un regno Nel luogo Che chiama Pruth Vangar E la sua sala Si chiama Bliskirnir In quella sala Ci sono 540 stanze Quella è la casa Più grande Che sia stata fatta mai Così dice Nel dialogo Di Grimnir 500 stanze E 40 Io credo Abbia Bliskirnir Conarcate Di quelle case Che so Essere Ricoperte Da tetto Quella di mio figlio Io so È la più grande Thor Possiede due capri Che così Si chiamano Tangniostr E Tans Grisnir È un carro Con cui viaggia E i capri Tirano il carro Perciò Egli è detto Ocupor Egli possiede anche Tre oggetti preziosi Uno di questi È il suo martello Mjolnir Che i giganti Della brina E i giganti Delle montagne Conoscono Quando arriva per aria E ciò non è strano Esso ha fracassato Il cranio A molti Dei loro padri E parenti Un secondo oggetto Egli possiede Ed è il migliore La cintura Di forza E quando Se ne cinge Allora Raddoppia La sua potenza Divina Ancora Un terzo oggetto Egli possiede Che ha davvero Un grande Valore Sono i guanti Di ferro Di loro Non può fare a meno Nell'impugnare Il martello Ma nessuno È così sapiente Che possa raccontare Tutte le sue grandi imprese E di lui Posso raccontare Così tanti fatti Che trascorrerebbe Molto tempo Prima che sia detto Tutto ciò che so 22 Allora parlò Gangleri Io voglio domandare Notizie degli altri asi Har disse Il secondo figlio di Odino È Baldr E di lui Bisogna dir bene Egli è il migliore E tutti lo lodano Egli è così bello D'aspetto e luminoso Che da lui Emana luce E c'è una pianta Così bianca Che è paragonata Alle ciglia di Baldr Quella È la più bianca Fra tutte le piante E da ciò Tu puoi renderti conto Della sua bellezza Sia nella chioma Che nel corpo Egli è il più sapiente Degli asi Il più amabile Nel parlare E il più clemente Ma questa caratteristica Gli è innata Che il suo giudizio Non può compirsi Egli abita nel luogo Che si chiama Breithablick Che sta in cielo In quel luogo Nulla Può essere impuro Così come qui dice Breithablick Si chiama Là dove Baldr Ha costruito Per sé Delle sale In quella terra Dove io So essere Pochissime rune Malefiche 23 Il terzo Ase È quello Che si chiama Nyorthr Egli abita In cielo Nel luogo Che si chiama Noatun Governa Il moto Del vento E placca Il mare E il fuoco A lui Si deve rivolgere L'invocazione Per i viaggi Per mare E per la pesca Egli è così Ricco Ed ovizioso Che può dare A quelli Che a tal fine Lo invocano Abbondanza di terre O beni mobili Nyorthr Non è Della stirpa E degli asi Egli fu allevato In Vanaheimer Ma i vani Lo diedero In ostaggio Agli dèi E presero In cambio Come ostaggio Quello che si chiama Hönir Egli costruì La riconciliazione Degli dèi Con i vani Nyorthr Ha in moglie Quella che si chiama Scafi Figlia del gigante Piazi Scafi Vuole avere La dimora Che aveva Posseduto Suo padre Quella È su certe montagne Nel luogo Che si chiama Primeheimer Nyorthr Invece Vuole restare Vicino al mare Essi si accordano Così Che dovevano stare Nove notti A Primeheimer E le altre nove A Noatun Ma quando Nyorthr Tornò a Noatun Dalla montagna Allora recitò Questo Odiose Mi sono le montagne A lungo Vi rimasi Solo nove notti L'unulato Dei lupi Mi pareva sinistro In confronto Al canto Dei cigni Allora Scafi Recitò Questo Non potevo Dormire Sui giacigli Accanto al mare Per via Del grido Dell'uccello Mi desta Quando arrivo Dalla foresta Ogni mattina Il gabbiano Allora Scafi Andò sulla montagna E abitò A Primeheimer Ed ella Va spesso Sugli sci E con l'arco A caccia Di animali Ella Si chiama Ondur Guther O Onduris Così è detto Primeheimer Si chiama Il luogo In cui Piazzi Viveva Quel gigante Detestabile Ma ora Scafi Abita Chiara Sposa Degli dèi Le antiche Dimore Del padre 24 Nyorth E Noah Thun Ebbero In seguito Due figli Il figlio Si chiamava Freyr E la figlia Freya Essi Erano Belli D'aspetto E potenti Freyr È il più Eccellente Fra gli Asi Egli Governa La pioggia E lo Splendore Del sole E con essi La crescita Della terra Ed è bene Invocarlo Per la prosperità E la pace Egli Governa Anche il Benessere Degli uomini Ma Freya È la più Eccellente Fra le Asinie Ella Possiede Quella Dimora Nel cielo Che si Chiama Folk Vangar E dovunque Ella cavalchia Una battaglia Allora Le spetta Metà Dei caduti E l'altra Metà Va ad Odino Così come Qui dice Folk Vangar Si chiami E là Freya Stabilisce L'assegnazione Dei sedili Nella sala Metà Dei caduti Ella Sceglie Ogni giorno E metà Haodino La sua sala È Sesrumnir Essa è Grande E bella E quando Ella viaggia Allora guida Due gatti E siede Sul carro Ella È assai Favorevole Per essere Invocata Dagli uomini E dal suo nome Deriva Quell'alto titolo Per cui Le donne Eminenti Sono dette Signore Frovor Molto Le aggrada Il canto D'amore A lei È bene Rivolgersi Per le Faccende D'amore 25 Allora Parlò Gangleri Assai Potenti Mi paiono Gli asi E non È strano Che molto Potere Possediate Voi Dal momento Che avete Chiara Cognizione Degli dei E sapete Quale si deve Pregare Per ciascuna Richiesta Ma Ci sono Ancora Altri dei Har Rispose C'è ancora Un'ase Che si chiama Tir Egli è Il più Coraggioso E il più Ardito E ha Grande Potere Sulla Vittoria Nelle Battaglie È bene Che lo invochino Gli uomini Valorosi C'è un'espressione Per cui è detto Valoroso Come Tir Ti Rauster Chi Supera Gli altri Uomini E non Esita Egli Era così Sapiente Che è detto Savio Come Tir Ti Spacar Colui Che è sapiente Questo È un segno Della sua Audacia Quando Gli asi Lusingarono Il lupo Ferrier Per mettergli Addosso La catena Magica Gleipnir Esso Non si Fidò Di loro Che lo Avrebbero Liberato Finché Non gli Misero In bocca Come pegno La mano Di Tir Ma Quando Gli asi Non Vollero Scioglierlo Allora Esso Staccò La mano Con un Morso Nel punto Che ora È detto Giuntura Del lupo Ed Egli È Monco E Non È Definito Rappacificatore Degli Uomini 26 Uno Si Chiama Braghi È Eccellente In Sapienza E Soprattutto In Eloquenza E Abilità Nel Parlare Egli È Il Più Dotato In Poesia E Da Lui L'arte Poetica È Detta Brager E Dal È Detto Eminente Brager Fra Gli uomini O fra le donne Chi è superiore Agli altri Nell'eloquenza Sua moglie È Ithun Ella Custodisce Nel Custodisce Le mele Di cui Gli dèi Devono Cibarsi Quando Invecchiano E Allora Tutti Ridiventano Giovani E Così Sarà Fino Al Crepuscolo Degli dèi Allora Parlò Gangleri Una Cosa Assai Importante Mi Pare Che Gli dèi Affidino Alla Custodia E Alla Buona Fede Di Ithun Allora Parlò Har E Rise Una Volta Ciò Portò Vicino A Una Situazione Critica Potrò Dirti Di Questo Ma Tu Ora Dovrai Prima Ascoltare I Nomi Degli Altri Asi 27 Heimdaller Si Chiama Uno Egli È Detto L'ase Bianco È Il Grande Santo Lo Generarono Come Figlio Nove Vergini E Tutte Sorelle Egli Si Chiama Anche Hallinskithr O Gullintanni I Suoi Denti Erano Doro Il Suo Cavallo Si Chiamava Gull Topper Egli Abita Nel Luogo Che Si Chiama Imin Bjorg Presso Bifrost È Il Guardiano Degli Dèi E Siede Là Presso Il Limite Del Cielo A Fare La Guardia Al Ponte Contro I Giganti Delle Montagne Gli Basta Meno Sonno Che A Un Uccello Egli Vede Tanto Di Notte Come Di Giorno Per Un Raggio Di Cento Miglia Sente Anche Quando L'erba Cresce Sulla Terra O La Lana Sulle Pecore E Tutto Ciò Che Ha Un Suono Più Forte Possiede Quel Corno Che Si Chiama Gjallarhorn Il Cui Suono Si Sente In Tutti I Mondi La Testa E Detta Spada Di Heimdall Qui E Detto Così Himin Bjorg Si Chiama Là Dove Heimdall Dicono Governa I Suoi Templi Là Il Guardiano Degli Dei Beve Nella Comoda Dimora Felice Il Buon Idromele E Ancora Dice Egli Medesimo Nel Canto Magico Heimdall Da Nove Madri Sono Nato Di Nove Sorelle Sono Figlio Ventotto Hothr Si Chiama Un Ase È Cieco Egli È Sufficientemente Forte Ma Gli Dei Vorrebbero Che Non Ci Fosse Bisogno Di Questo Ase Poiché L'opera Della Sua Mano A Lungo Sarà Tenuta A memoria Fra Gli Uomini E Gli Dei Ventinove Vithar Si Chiama Uno L'Ase Silenzioso Egli Ha Una Calzatura Spessa È Forte Quasi Quanto Thor Da Lui Gli Dei Hanno Grande Sostegno In Tutte Le Hardwe Imprese Trenta Ali O Vali Si Chiama Uno Figlio Odino E Rindr Egli È Coraggioso Nelle Battaglie E Un Eccellente Tiratore Trentuno Uller Si Chiama Uno Figlio Di Sif Figliastro Di Thor Egli È Un Arciere Così Bravo E Così Abile Sugli Sci Che Nessuno Può Competere Con Lui Egli È Anche Bello D'aspetto E Alle Doti Del Guerriero Anche A Lui È Bene Rivolgere L'invocazione Nei Duelli Trentadue Forseti Si Chiama Il Figlio Di Baldr E Nanna Figlia Di Neper Egli Possiede Quella Sala In Cielo Che Si Chiama Glitnir E Tutti Quelli Che Vanno Da Lui Con Delle Dispute Tutti Se Ne Tornano Riconciliati Quello È Il Tribunale Migliore Fra Gli Uomini E Gli Dei Così Dice Qui Glitnir Si Chiama Una Sala Essa È Sostenuta Con Oro Eppure Ricoperta D'Argento E La Forseti Abita La Maggior Parte Dei Giorni E Appiana Ogni Contesa Trentatré Fra Gli Asi È Annoverato Anche Quello Che Taluni Chiamano Il Calunniatore Degli Asi O L'origine Degli Inganni E La Disgrazia Di Tutti Gli Dèi E Gli Uomini Questi Si Chiamano Loki O Loper Figlio Del Gigante Far Bauti Sua Madre È Lofri O Nal I Suoi Fratelli Sono B Leister E Hel Blindi Loki È Avvenente E Bello D' Aspetto Malvagio Di Carattere È Assai Mutevole Nel Comportamento Possedeva Assai Più Degli Altri Uomini La Scienza Che Si Chiama Astuzia E Arriva A Tutto Con Gli Inganni Egli Condusse Sempre Gli Asi In Grandi Difficoltà E Spesso Li Trasse D' Impaccio Con Ingannevoli Disegni Sua Moglie Si Chiama Sigin Il Loro Figlio È Nari O Narvi 34 Loki Aveva Anche Altri Figli Anger Botha Si Chiama Una Gigantessa In Jotunheimer Da Lei Loki Ebbe Tre Figli Uno Era Fenrisulfur Il Secondo E Jormungandr Cioè Mythgarth Sormer La Terza È Hel Ma Quando Gli Dei Vennero A Sapere Che Questi Tre Fratelli Venivano Allevati In Jotunheimer E Scoprirono Dalle Profezie Che Da Questi Fratelli Sarebbero Loro Derivati Grande Danno E Disgrazia A Tutti Parve Questa La Prospettiva Di Un Grande Male Prima Di Tutto Per Via Della Madre E Ancor Peggio Per Il Padre Al Father Mandò Gli Dei In Quel Luogo A Prendere Quelle Creature Per Condurle Da Lui E Terre E Quel Serpe Crebbe Tanto Che Giace Nel Mezzo Dell'Oceano Attorno A Tutte Le Terre E Si Morde La Coda Hell Egli Gettò In Niflheimer E Le Diede Potere Sui Nuove Mondi Che Ella Assegnasse Tutte Le Dimore Fra Quelli Che Le Fossero Mandati E Costoro Sono I Morti Per Malattia E I Morti Per Vecchiaia La Ella Possiede Una Grande Casa E I Suoi Recinti Sono Straordinariamente Alti E Grandi I Cancelli La Sua Sala Si Chiama Eli Uthnir Il Suo Piatto Hungr Il Suo Coltello Sultr Il Servo Ganglati La Serva Ganglot La Soglia Di Cui Si Entra Fallanda For Il Letto Cor La Soglia Di Ornamenti Del Letto Blichianda Bol Ella È Per Metà Nera E Per Metà Del Colore Della Pelle Perciò È Facile Da Riconoscere E Dall'aspetto Piuttosto Arcigno E Sinistro Il Lupo Gli Asi Lo Allevarono A Casa Loro E Solo Tyr Aveva Il Coraggio Di Andare Da Lui E Porgergli Il Cibo Ma Quando Gli Dei Videro Quanto Cresceva Ogni Giorno E Che Tutte Le Profezie Dicevano Che Sarebbe Stato Il Destinatario Della Loro Sventura Allora Gli Asi Presero La Decisione Di Fare Una Catena Assai Robusta Che Chiamarono Lothinger E La Portarono Al Lupo E Gli Chiesero Di Provare La Sua Forza Con La Catena Ma Al Lupo Ciò Non Parve Superiore Alle Sue Quella Catena Si Spezzò Così Si Liberò Dall'Othinger Subito Dopo Gli Asi Fecero Un'altra Catena Robusta Il Doppio Che Essi Chiamarono Dromi E Ancora Invitarono Il Lupo A Provare Quella Catena E Dissero Che Sarebbe Diventato Molto Famoso Per La Forza Se Un Prodotto Di Tali Dimensioni Non Potesse Tenerlo Legato Ma Il Lupo Pensò Che Questa Catena Era Molto Robusta E Anche Che La Sua Forza Era Cresciuta Da Quando Aveva Spezzato L'Othinger Ciò Desiderò Che Doveva Mettersi In Pericolo Se Voleva Diventare Famoso E Si Lasciò Incatenare E Quando Gli Asi Si Dissero Pronti Allora Il Lupo Si Scosse E Sbatté La Catena A Terra Si Sforzò Duramente Puntò Le Zampe E Ruppe La Catena Così Che I Pezzi Volarono Lontano Così Si Liberò Da Dromi Da Allora C'è L'espressione Sciogliere Da Lothinger O Liberare Da Dromi Quando Una Cosa È Conseguita Con Veemenza Dopo Di Ciò Gli Asi Ebbero Paura Che Non Sarebbero Riusciti A Legare Il Lupo Allora Al Father Mandò Quello Che Si Chiamava Schirnir Messaggero Di Freyr Judas Vartalfheimer Da Certi Nani E Fece Fare Quella Catena Magica Che Si Chiama Gleipnir Essa Fu Fatta Con Sei Cose Rumore Di Gatto E Barba Di Donna Radici Di Monte E Tendini Di Orso Respiro Di Pesce E Sputo D'Uccello E Sebbene Tu Non Conoscessi Prima Questi Fatti Ora Puoi Rapidamente Avere Qui La Prova Sicura Che Non Ti Viene Mentito Devi Aver Visto Che La Donna Non Ha La Barba E Che Non Viene Rumore Dal Balzo Del Gatto E Che Non Ci Sono Radici Sotto A Un Monte E In Fede Mia So Che Tutto Ciò Che Ti Ho Detto È Ugualmente Vero Seppure Ci Siano Alcune Cose Che Tu Non Puoi Verificare Allora Parlò Gangleri Questo Di Certo Posso Capire Che È Vero Io Posso Constatare Le Cose Che Tu Hai Preso A Esempio Ma In Che Modo Fu Forgiata La Catena Har Disse Questo Posso Dirtelo Bene La Catena Divenne Liscia E Morbida Come Un Nastro Di Seta Ma Robusta E Forte Come Ora Udrai Quando La Catena Fu Portata Agli Asi Essi Ringraziarono Molto Il Messaggero Per La Sua Commissione Allora Gli Asi Andarono Su Quel Lago Che Si Chiama Amsvart Nir In Quell'isolotto Che Chiamato L'Aingvi E Chiamarono Presso Di Sè Il Lupo Gli Mostrarono Il Nastro Di Seta E Lo Invitarono A Strapparlo E Per via Dello Spessore E Ognuno Lo Passava All'altro E Lo Provava Con La Forza Della Mano Ma Non Si Rompeva Ma Tuttavia Essi Sostenevano Che Il Lupo Lo Avrebbe Strappato Allora Allora Lupo Rispose Mi Pare Con Questo Nastro Che Non Ne Trarrò Nessuna Fama Anche Se Faccio A pezzi Un Laccio Così Sottile Ma Se Esso È Fatto Con Arte In 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 Allora Questo Nastro Non Verrà Posto Sulle Mie Zampe Allora Gli Asi Dissero Che Egli Avrebbe Rapidamente Fatto A Pezzi Quel Sottile Nastro Di Seta Lui Che Prima Aveva Spezzato Grosse Catene Di Ferro Ma Se Tu Non Riesci A Strappare Questo Nastro Allora Non Sarai In Grado Di Far Paura Agli Dei Dunque Noi Ti Libereremo Il Lupo Disse Se Voi Mi Legate Così Che Io Non Riesco A Liberarmi Vi Sarete Fatti Gioco Di Me E Si Farà Tardi Prima Che Io Possa Avere Aiuto Da Voi Sono Restio A Farmi Mettere Addosso Questo Nastro Ma Piuttosto Che Voi Mi Rimproveriate Di Non Avere Coraggio Uno Di Voi Metta La Sua Mano Nella Mia Bocca In Garanzia Che Questo È Fatto Senza In In Anno Ma Ciascuno Degli Asi Guardava Verso L'altro E Ora Pareva Che Nessuno Voleva Porgere La Propria Mano Finché Tyr Stese La Mano Destra E La Pose Nella Bocca Del Lupo Ma Quando Il Lupo Si Puntò Allora Il Nastro Si Indurì E Quanto Più Duramente Esso Si Sforzava Tanto Più Stretto Diventava Il Nastro Allora Risero Tutti Tranne Tyr Egli Perse La Sua Mano Quando Gli Asi Videro Che Il Lupo Era Legato Per Bene Presero La Fune Che Usciva Dalla Catena Che Si Chiama Gelgia E La Fecero Passare Attraverso Una Grande Lastra Di Pietra Che Si Chiama Ghiole E Piantarono La Lastra Giù In Basso Nella Terra Poi Presero Una Grande Pietra E La Ficcarono Ancor Più Addentro Nella Terra Questa Si Chiama Pviti E Quella Pietra Usarono Come Un Piolo Il Lupo Spalancò La Bocca Furiosamente E Lottava Con Forza E Voleva Azzannarli Essi Gli Conficcarono In Bocca Una Spada Il Pomolo Tocca La Mascella Inferiore E La Punta Quella Superiore Quello È Il Suo Morso Ulula Spaventosamente E Dalla Sua Bocca Scorrebbava Cioè Quel Fiume Che Si Chiama Von La Esso Resterà Fino Al Crepuscolo Degli Dei Allora Parlò Gangleri Una Progenie Davvero Pessima Ebbe Loki Ma Tutti Questi Fratelli Sono Assai Potenti Ma Perché Gli Asi Non Uccisero Il Lupo Dal Quale Non Devono Aspettarsi Che Male Har Rispose Così Tanto Gli Dei Consideravano I Loro Templi E Luoghi Sacri Che Non Volevano Contaminarli Con Il Sangue Del Lupo Sebbene Le Profezie Dicano Che Esso Sarà Causa Di Morte Per Odino 35 Allora Parlò Gangleri Quali Sono Le Asinie Har Disse Frigg È La Più Eminente Ella Possiede Quella Dimora Che Si Chiama Fensalir Ed È Splendida La Seconda È Saga Ella Abita A Sok Varbekar E Quello È Un Luogo Grande La Terza È Eir Ella È Il Medico Migliore La Quarta È Ghefiun Ella È Vergine E A Lei Rendono Omaggio Quelle Che Muoiono Vergini La Quinta È Fulla Anche Lei È Vergine E Porta I Capelli Sciolti E Un Nastro D'oro Attorno Al Capo Ella Reca Lo Scrigno Di Frigg E Custodisce I Suoi Calzari E Conosce I Suoi Segreti Consigli Frigg Freya È La Più Nobile Insieme A Frigg Ella Fu Sposata A Quell'uomo Che Si Chiama Othr La Loro Figlia Si Chiama Knoss Ella È Così Bella Che Dal Suo Nome Le Cose Belle E Preziose Sono Dette Knossir Othr Partiva Per Lunghi Viaggi E Freya Ne Piangeva E Le Sue Lacrime Sono Oro Rosso Freya Ha Molti Nomi E La Causa Di Ciò È Che Ella Si Diede Diversi Appellativi Quando Andò Tra Popoli Sconosciuti A Cercare Othr Ella Si Chiamava Maldor E Horn Giffen Sir Freya Possedeva Brisingamen Ella È Chiamata Vanadis La Settima È Siofn Ella Si Prende Molto Cura Nel Volgere Le Menti Degli Uomini All'amore Donne E Uomini Dal Suo Nome L'amore È Detto Siafni L'ottava È Lofn Ella È Così Mite E Buona Da Invocare Che Ha Il Permesso Di All Father E Frigg Per Unire Le Persone Donne E Uomini Seppure Prima Fosse Proibito O Interdetto Perciò Dal suo Nome È Detto Lof Il Permesso È Così Anche Ciò Che È Molto Lodato Lofat Dagli Uomini La Nona È Var Ella Ascolta I Giuramenti Degli Uomini E Gli Accordi Che Prendono Fra Loro Donne E Uomini Perciò Quelle Promesse Sono Dette Varar Ella Si Vendica Anche Di Coloro Che Li Revocano La Decima È Vor Ella È Savia E Curiosa Sicché Nessuna Cosa Le Si Può Nascondere C'è L'espressione Per cui Una Donna Diventa Consapevole Vor Di Ciò Di Cui Ella Si Rende Conto L'undicesima È Sin Ella Sta Di Guardia Alle Porte Della Sala E Le Chiude Davanti A Quelle Che Non Devono Entrare Ed È Posta Difesa Nelle Assemblee Per Le Cause Che Ella Vuole Confutare Perciò C'è Quell' Espressione Che Un Diniego Sin Uno Confuta Un' Accusa La Dodicesima È Lin Ella È Posta A Protezione Degli Uomini Che Frigg Vuole Salvare Da Qualche Pericolo Di Là Vi È Nell' Espressione Che Colui Che Si Salva Sta Sicuro Leinir La Tredicesima È Snotra Ella È Saggia E Gentile Nel Portamento Dal Snotra L'Uomo O La Donna Dai Modi Misurati La Quattordicesima È Gna Frigg La Envia Nei Diversi Mondi Per Le Sue Commissioni Ella Possiede Un Cavallo Per Cavalcare L'aria E L'acqua Che Si Chiama Hof Warpnir Una Volta In Cui Cavalcava Alcuni Vani Videro Il Suo Passaggio Nell' Allora Uno Parlò Che Cosa Vola Là Che Cosa Passa Là O Trascorre Nell' Aria Ella Rispose Io Non Volo Sebbene Io Passi E Trascorra Nell' Aria Su Hof Warpnir Quello Che Amskerpir Generò Con Garthrofa Dal Nome Gna È Detto Chi Sta In Alto Gnoefer Sol E Bill Sono Annoverate Fra le Asinie Ma Delle Loro Caratteristiche Si è Detto Prima 36 Ancora Ci sono Quelle Altre Che Devono Servire Nel Valhalla Portare Da Bere E Prendersi Cura Del Servizio Della Tavola E Dei Recipienti Di Birra Così Sono Nominate Nel Dialogo Di Grimnir Hirst E Mist Io Voglio Che Mi Portino Il Scheggiol E Skogul Ildr E Pruthr Loc E Er Fyotur Gol E Geirah Huth Ragri Rathgrith E Reginleif Esse Portarono La Birra Agli Einherjar Queste Si Chiamano Valkyrie Odino Le Manda In Ogni Battaglia Esse Scelgono Gli Uomini Cui Toccherà La Morte E Decidono La Vittoria Uthr E Rota E La Norna Più Giovane Che Si Chiama Skuld Cavalcano Sempre A Scegliere I Caduti E A Decidere Le Battaglie Lorth Madre Di Thor E Rindr Madre Di Vali Sono Annoverate Fra Le Asinie 37 Un Uomo Si Chiamava Gimir E Sua Moglie Aur Botha Ella Era Della Stirpe Dei Giganti Delle Montagne La Loro Figlia Era Gerthr La Più Bella Fra Tutte Le Donne Avvenne Un Giorno Che Freyr Era Andato In Ljoth Schialf E Guardava Tutti I Mondi E Quando Si Volse In Direzione Nord Allora Vide In Una Fattoria Una Grande E Bella Casa E Verso Quella Casa Andava Una Donna E Quando Ella Alzò Le Braccia E Aprì La Porta Dinanzi A Sè Dalle Sue Mani Furono Rischiarate L'acqua E L'aria Di Tutti I Mondi Furono Illuminati Da Lei E Fu Così Vendicata La Sua Grande Presunzione D'essersi Seduto Su Quel Trono Santo Poiché Egli Se Andò Di Pieno Di Dolore E Quando Arrivò A Casa Non Parlava Non Dormiva Ne Beveva E Nessuno Osava Rivolgergli La Parola Allora Gnorth Fece Chiamare A sé Schirnir Servo Di Freyr E Lo Pregò Di Andare Da Freyr E Rivolgergli La Parola E Domandare Perché Fosse Così Arrabbiato Che Non Parlava Con Le Persone E Schirnir Affermò Che Sarebbe Andato Ma Non Volentieri E Disse Che C'erano Da Attendersi Da Lui Delle Rispostacce E Quando Giunse Da Freyr Domandò Perché Fosse Così Abbattuto Che Non Parlava Con Le Persone Freyr Rispose Che Aveva Visto Una Bella Donna E Per Causa Sua Era Così Pieno Di Dolore Che Non Sarebbe Vissuto A Lungo Se Non La Avesse Avuta E Ora E Io Ti Compenserò Bene Allora Schirnir Rispose Disse Che Sarebbe Andato Per Quella Missione Ma Freyr Doveva Dargli La Sua Spada Quella Era Una Spada Così Buona Che Combatteva Da Sola E Freyr Non Si Fece Pregare E Gli Diede La Spada Allora Schirnir Andò E Chiese In Sposa La Donna Per Lui Ed Ebbe Da Lei La Promessa Che Nove Notti Dopo Ella Si Sarebbe Recata Nel Luogo Che Si Chiama Barre E Avrebbe Celebrato Le Nozze Con Freyr E Quando Schirnir Disse A Freyr Della Sua Missione Egli Recitò Questo Lunga E Una Notte Lunga E La Seconda Come Posso Languire Per Tre Spesso A Me Un Mese Parve Più Breve Di Questa Mezza Notte D'Estate Questa È La Causa Per Cui Freyr Era Senza Armi Quando Combatté Contro Belli E Lo Uccise Con Un Corno Di Cervo Allora Parlò Gangleri Grande Meraviglia È Che Un Capo Come Freyr Abbia Voluto Donare La Spada Dal Momento Che Non Ne Aveva Un' Altra Altrettanto Buona Questo Fu Per Lui Un Danno Assai Grave Quando Combatté Con Quello Che Si Chiama Belli E Credo In Fede Mia Che Debba Essersi Pentito Di Quel Dono Allora Har Rispose Fu Cosa Di Poca Importanza Quando Lui E Belli Si Incontrarono Freyr Poteva Ucciderlo Con La Mano Ma Accadrà Che A Freyr Parrà Di Stare Peggio E Che Sentirà La Mancanza Della Spada Quando I Figli Di Muspel Arriveranno E Devasteranno 38 Allora Parlò Gangleri Tu Dici Che Tutti Gli Uomini Sono Caduti In Battaglia Dall'inizio Del Mondo Sono Ora Giunti Da Odino Nel Val Alla Ma Che Cosa Ha Da Dar Loro Da Mangiare Penso Che Laci Deba Essere Una Folla Enorme Allora Har Rispose Vero È Ciò Che Tu Dici Là C'è Una Folla Enorme E Molto Più Grande Ancora Diventerà E Tuttavia Parrà Assai Scarsa Quando Verrà Il Lupo Ma Mai Ci Sarà Nel Val Alla Una Folla Così Grande Che Non Possa Bastare Per Loro La Carne Di Quel Verro Che Si Chiama Sermnir Esso Vi Incotto Ogni Giorno Ed Mi pare Molto Probabile Che Pochi Siano Così Sapienti Da Poter Dire Il Vero Al Riguardo Il Cuoco Si Chiama And Rimnir Ed Eldrimnir Il Calderone Così Ha Detto And Rimnir Fein Eldrimnir Cuocere Saer Rimnir La Migliore Fra Le Carni Ma Pochi Lo Sanno Di Che Cosa Si Nutrino Gli Einheriar Allora Parlò Gangleri Forse Che Odino Prende Lo Stesso Pasto Degli Einheriar Har Disse Quel Cibo Che Sta Sul Tavolo Egli Lo Dà Due Lupi Che Possiede Che Così Si Chiamano Gheri E Frechi E Di Nessun Cibo Egli Ha Bisogno Il Vino E Per Lui Tanto Bevanda Quanto Cibo Così Dice Qui Gheri E Frechi Sazia Abituato Alla Battaglia Eri A Fother Glorioso Ma Col Vino Soltanto Glorioso Per Le Armi Odino Vive Per Sempre Due Corvi Stanno Sulle Spalle E Gli Dicono Nelle Orecchie Tutti Gli Eventi Che Vedono E Odono Essi Si Chiamano Così Hugin E Munin All'alba Egli Li Manda A volare Intorno Al mondo Ed Essi Tornano Indietro All'ora Del Pasto Così Egli Viene A Sapere Molte Notizie Perciò Gli Uomini Lo Chiamano Rauf Nagurth Così Come È Detto Hugin E Munin Volano Ogni Giorno Sopra La Vasta Terra Io Temo Che Hugin Non Torni Indietro Sebbene Io Tema Di Più Per Munin 39 Allora Parlò Gangleri Che Cosa Hanno Da Bere Gli Ein Heriar Che Basti Per Loro In Misura Altrettanto Abbondante Del Cibo Forse Che Là Si Beve Acqua Allora Har Disse Ora Hai Fatto Una Domanda Strana Come Se Al Father Invitasse Presso Di Sè Re O Yarlar O Altri Uomini Potenti Ed Esse Loro Da Bere Acqua E Io So In Fede Mia Che Più D'uno Di Quelli Che Giungono Nel Valhalla Considerebbe Di Pagar Caro Un Sorso D'acqua Se Là Non Fosse Offerta Ospitalità Migliore A Chi Prima Abbia Sopportato Le Ferite E Dolori Brucianti Della Morte Un'altra Cosa Io Posso Dire Di Quel Luogo La Capra Che Di Che La Cosa Che Si Chiama L'Era E Dalle Sue Mammelle Scorre L'idromele Che Riempie Ogni Giorno Un Grande Recipiente Esso È Così Grande Che Tutti Gli E Neriar Ne Bevono A Sazietà Allora Parlò Gangleri «Questa è per loro una capra straordinariamente utile. Un albero eccezionalmente buono deve essere quello da cui bruca.» Allora parlò Har. «Ancora più notevole è il cervo Eik Pyrnir, che sta nel Valhalla e bruca dai rami di quell'albero, e dalle sue corna scende una goccia così grande che arriva giù in Vergilmir. E di là scaturiscono i fiumi, che così si chiamano Sith, Vith, Sekin, Ekin, Svol, Gunpro, Fjorm, Fimbulful, Ghipul, Gopul, Gomul, Geilgirmul. Questi fiumi scorrono nelle zone abitate dagli asi. Anche questi sono nominati. Pin, Vin, Pol, Hol, Grath, Gumprain, Nith, Naut, Non, Ron, Vina, Veschivn, Piotnuma.» Quaranta. Allora parlò Gangleri. «Questi di cui mi parli sono fatti straordinari. La Valhalla deve essere una dimora eccezionalmente grande. Davanti alle porte deve esserci spesso una grande interessa.» Allora Har rispose «Perché non domandi quante porte ci sono nel Valhalla e quanto grandi? Quando tu lo avrai sentito allora dovrai ammettere che è strano, che non possa entrare e uscire chiunque voglia. Ma bisogna dire in verità che non c'è più affollamento per trovarvi posto che per entrarvi.» Senti come dice qui nel dialogo di Grimnir. «Cinquecento porte e quaranta. Io credo che ci siano nel Valhalla. Ottocento Einheriar escono contemporaneamente da una porta quando vanno a combattere col lupo.» «Quarantuno.» Allora parlò Gangleri. «Una grandissima folla c'è nel Valhalla. E so in fede mia che Odino è un grandissimo capo seguì da un esercito così grande. Ma qual è il passatempo degli Einheriar quando non bevono?» Har disse «Ogni giorno quando si sono vestiti indossano l'armatura ed escono fuori nel recinto e si battono e ciascuno abbatte l'altro. Questo è il loro gioco. E quando si avvicina l'ora del pasto cavalcano indietro verso il Valhalla e si siedono a bere. Così come qui dice. Tutti gli Einheriar nelle corti di Odino si battono ogni giorno. Essi scelgono i caduti e cavalcano dalla battaglia. Siedono di nuovo insieme riconciliati.» «Ma è vero ciò che tu dici. Odino è assai potente. Di questo ci sono molte prove. Così è detto qui nelle parole degli Asi medesimi. Il Frassino e i Grassil, quello è l'imminente fra gli alberi. Eskithblathnir fra le navi. Odino fra gli Asi e fra i Destrieri Sleipnir. Bifrost fra i Ponti e Braghi fra gli Scaldi. Habrok fra i Falchi e fra i Cani. Garmr. 42. Allora parlò Gangleri. «Chi possiede il cavallo Sleipnir e che cosa c'è da dire su di lui?» Har rispose «Tu non conosci le caratteristiche di Sleipnir e non sai le circostanze da cui nacque. Ma ciò ti parrà degno di essere raccontato.» Ciò avvenne un tempo all'inizio dell'insediamento degli dèi, quando gli dèi avevano posto Midgard e costruito la Valhalla. Allora venne là un fabbro e offrì di fare per loro in tre stagioni una fortezza tanto solida che fosse sicura contro i giganti delle montagne e i giganti della Brina. Quando anche essi fossero entrati in Midgard. Ed egli chiese per sé, come compenso, di ottenere Freya e voleva avere il sole e la luna. Allora gli asi si unirono a colloquio e tennero consiglio e con il fabbro fu fatto l'accordo che egli avrebbe ottenuto ciò che aveva chiesto se avesse costruito la fortezza in un inverno. Ma se il primo giorno di estate qualche parte della fortezza fosse rimasta incompiuta, allora avrebbe infranto l'accordo. Egli inoltre non doveva ricevere aiuto da alcuna persona nel lavoro. E quando gli dissero queste condizioni, egli chiese che gli permettessero di avere aiuto dal suo cavallo che si chiamava Sfaltiferi. E Loki consigliò che ciò gli fosse consentito. Il primo giorno d'inverno egli cominciò a costruire la fortezza e di notte trainava le pietre con il cavallo. E agli asi pareva una cosa straordinaria quali grossi massi quel cavallo trainava. E il cavallo contribuiva all'impresa il doppio rispetto al fabbro. Ma per il loro accordo c'erano salde testimonianze e molti giuramenti perché al gigante non pareva sicuro stare fra gli asi senza salvaguardia se Thor fosse tornato a casa. Egli era andato in oriente a combattere i giganti. E quando l'inverno volgeva al termine, allora la costruzione della fortezza era molto avanzata. Ed essa era così alta e robusta che non si poteva attaccarla. Quando mancavano tre giorni all'estate era giunta ormai al cancello. Allora gli dèi si sedettero sui seggi del giudizio e tennero consiglio. E ciascuno domandava all'altro chi avesse consigliato di far sposare Freya in Jotunheimr e spogliare l'aria e il cielo così da toglierne il sole e la luna per darli ai giganti. Ed essi furono tutti d'accordo che questo doveva aver consigliato quello che consiglia la maggior parte del male. Loki, figlio di Lofri, e dissero che era degno di una pessima morte se non avesse trovato una soluzione perché il fabbro infrangesse l'accordo. E assalirono Loki. E quando egli si spaventò pronunciò giuramenti che avrebbe fatto in modo che il fabbro infrangesse l'accordo qualsiasi cosa costasse. E la stessa sera quando il fabbro uscì fuori a prendere le pietre con il cavallo sfalziferi allora una puledra balzò fuori da un bosco verso il cavallo e nitrì. E quando il cavallo capì che giumenta fosse quella si infuriò e strappò la fune e corse verso la puledra ed essa via verso il bosco e il fabbro dietro voleva prendere il cavallo. Ma questi cavalli galoparono tutta la notte e la costruzione quella notte si interruppe. Il giorno dopo non si era lavorato come era stato in precedenza e quando il fabbro vide che il lavoro non sarebbe stato finito allora venne preso dalla furia dei giganti. Ma quando gli asi videro per certo che là era giunto un gigante delle montagne allora non furono rispettati i giuramenti ed essi chiamarono Thor. Egli venne immediatamente e subito dopo brandì in aria il martello Mjolnir. Pagò allora il compenso per l'opera ma non il sole e la luna piuttosto gli negò di abitare in Jotunheimer e il primo colpo lo vibrò così forte che il cranio si spezzò in piccoli frammenti e lo mandò giù sotto Nif Hel. Ma Loki aveva avuto con svaltiferi un comportamento tale per cui dopo un po' egli partorì un puledro. Esso era grigio e aveva otto zampe e questo è il cavallo migliore fra gli dèi e gli uomini. Così dice nella predizione dell'Indovina allora andarono tutti gli dèi agli scranni del giudizio le santissime divinità e di ciò dibatterono chi avesse tutta l'aria mescolato con sventura o alla stirpe del gigante dare volesse la risposta di Othr. Infranti furono i giuramenti le parole e le promesse tutti gli accordi solenni che c'erano stati tra loro. Thor solo la combatte, gonfio d'ira e gli di rado siede a guardare quando viene a sapere tali cose. 43. Allora parlò Gangleri. Che cosa c'è da dire di Skith Blathnir che è la migliore fra le navi? Forse che non c'è una nave altrettanto buona o altrettanto grande. Har disse. Skith Blathnir è la migliore fra le navi e fatta con la più grande abilità. Ma Naglfari è la nave più grande che è in Muspel. Alcuni nani, figli di Ivaldi, fecero Skith Blathnir e diedero la nave a Freyr. Essa è così grande che tutti gli asi possono prendervi posto con le armi e l'armamento. Ed essa a vento favorevole non appena la vela viene issata, dovunque debba andare. Ma quando non si deve andare per mare con essa, allora è fatta di così tanti pezzi e con così grande arte che si può piegare come una stoffa e tenerla nella borsa. 44. Allora parlò Gangleri. Skith Blathnir è una buona nave. Ma ci vuole una magia molto grande per arrivare a fare ciò. Forse che a Thor non è mai capitato di imbattersi in qualcosa di tanto potente e forte che gli fosse superiore a motivo della forza o della magia. Allora parlò Har. Poche persone mi aspetto che possano parlare di questo e a lui molte cose sono parse difficili da superare. Ma sebbene sia capitato che qualcosa sia stato così forte o potente che Thor non abbia potuto sconfiggerla, tuttavia non è nemmeno necessario parlarne. Poiché ci sono molte prove del fatto che Thor è il più potente e perciò tutti sono tenuti a crederlo. Allora parlò Gangleri. Mi pare che io vi abbia domandato una cosa che nessuno è in grado di dire. Allora parlò Yafnhar. Noi abbiamo udito degli avvenimenti che ci pare impossibile siano veri, ma qui accanto deve sedere quello che sa dire le notizie vere e tu devi credere che non mentirà ora per la prima volta chi mai mentì in precedenza. Allora parlò Gangleri. Qui io starò ad ascoltare se c'è qualche risposta a queste parole, altrimenti dichiarerò che siete stati superati se voi non sapete dire ciò che domando. Allora parlò Prithi. È evidente che egli vuole sapere di questi fatti, sebbene a noi non paia bello raccontarli. Ma tu devi tacere. L'inizio di questo racconto è che Ocupor andò con i suoi capri e il carro e con lui quell'ase che si chiama Loki. A sera essi giunsero da un contadino ed ebbero là ricovero per la notte. E alla sera Thor prese i suoi capri e le abatteo entrambi. Dopo di ciò essi furono scuoiati e messi in pentola. E quando furono cotti allora Thor si sedette per la cena con il suo compagno. Thor invitò il contadino e sua moglie e i loro figli a mangiare con lui. Il figlio del contadino si chiamava Pialbi e la figlia Ruskva. Thor stese le pelli dei capri oltre il fuoco dalla parte della porta e disse che il contadino e i suoi familiari dovevano gettare gli ossi sulle pelli dei capri. Pialbi figlio del contadino teneva in mano l'osso della coscia di un capro. Lo aprì col suo coltello e lo spezzò per estrarre il midollo. Thor si fermò là per la notte e all'aurora prima del giorno egli si alzò e si vestì. Prese il martello Mjolnir, lo brandì e consacrò le pelli dei capri. Allora i capri si alzarono ma uno dei due era zoppo dalla zampa posteriore. Thor se ne avvide e disse che il contadino o uno dei suoi familiari non doveva essersi comportato con giudizio con gli ossi del capro. Egli capiva che l'osso della coscia era spezzato. Non occorre farla lunga. Tutti sanno bene come dovesse essere spaventato il contadino quando vide che Thor aggrottava le sopracciglia sugli occhi. E per quello che di quegli occhi vedeva pensò che sarebbe morto immediatamente di fronte a quella visione. Egli serrò le mani sull'impugnatura del martello così che sbiancarono le nocche ma il contadino fece quello che c'era da aspettarsi e con lui tutti i suoi familiari. Implorarono con forza, chiesero la grazia e offrirono come compenso tutto ciò che avevano. E quando egli vide il loro terrore allora l'ira lo abbandonò e si calmò come segno di riconciliazione prese i loro figli Fialfi e Roskva. Ed essi divennero perciò servitori devoti di Thor ed allora lo seguono sempre. 45 Egli lasciò là i capri e intraprese il viaggio verso oriente in Jotunheimer e andò fino all'oceano poi proseguì oltre sopra l'oceano profondo. Quando giunse a terra allora salì sulla riva e con lui Loki, Pialfi e Roskva. Quando essi ebbero camminato per un po' si trovarono davanti a una grande foresta. Camminarono per tutto il giorno fino a quando fu buio. Pialfi aveva i piedi più lesti di chiunque. Egli portava il sacco di Thor ma non c'era molto da mangiare. Quando si fu fatto buio si cercarono un ricovero per la notte e trovarono una capanna molto grande. All'estremità c'era una porta larga quanto la capanna. Là essi cercarono un posto per la notte. Ma a metà della notte ci fu un grande terremoto. La terra si scosse sotto di loro e la casa tremò. Allora Thor si alzò e chiamò i suoi compagni. Procedettero a tentoni e trovarono un locale secondario nel mezzo della capanna sul lato destro e andarono là. Thor si sedette sulla porta e gli altri erano più dentro rispetto a lui ed erano spaventati. Thor teneva l'impugnatura del martello e pensava di difendersi. Allora udirono un gran mormorio e un rombo e quando si fece giorno Thor uscì e vide che un uomo era coricato poco lontano da lui nella foresta. E questi non era affatto piccolo. Dormiva e russava forte. Allora a Thor parve di capire quale rumore ci fosse stato la notte. Egli si cinse della cintura di forza e gli crebbe la potenza divina. Ma in quel mentre l'uomo si destò e si alzò in fretta. E allora è detto che Thor per una volta esitò a colpirlo col martello e gli domandò il nome e quello si chiamava Skrimir. Ma io non ho bisogno, egli disse, di domandarti il mio nome. Io vedo che tu sei Asapor. Ma perché hai tolto via il mio guanto? Poi Skrimir stese la mano e raccolse il suo guanto. Allora Thor vide che quello era stata la sua capanna per la notte e il locale secondario era il pollice del guanto. Skrimir domandò se Thor volesse avere la sua compagnia e Thor acconsentì. Allora Skrimir prese il suo sacco delle provviste, lo slegò e si preparò a consumare il pasto mentre Thor stava in un altro posto con i suoi compagni. Skrimir propose di mettere insieme le loro provviste e Thor acconsentì. Allora Skrimir riunì tutte le provviste in un unico sacco e se lo mise sulle spalle. Egli camminò davanti per tutto il giorno e faceva passi piuttosto lunghi. Più tardi alla sera Skrimir cercò per loro un ricovero per la notte sotto una grande quercia. Poi Skrimir disse a Thor che voleva accoricarsi per dormire. Ma voi prendete il sacco delle provviste e preparatevi per la cena. Subito dopo Skrimir si addormentò e russava forte. Ma Thor prese il sacco delle provviste e doveva slegarlo e bisogna dire per quanto possa sembrare inverosimile che egli non riuscì a sciogliere alcun nodo né a smuovere le estremità delle cinghie in modo che fossero più lente di prima. E quando vide che questa era una fatica inutile allora diventò furioso. Afferrò il martello Mjolnir con entrambe le mani e fece un passo verso il luogo in cui Skrimir era coricato e lo colpì in testa. Ma Skrimir si destò e domandò se gli fosse caduta sulla testa una foglia e se essi avessero mangiato e fossero pronti per andare a letto. Thor disse che stavano per andare a dormire. Andarono allora sotto un'altra quercia ma devo dirti in verità che non fu un sonno tranquillo. E a metà della notte Thor sentì che Skrimir russava e dormiva sodo così che la foresta rintronava. Allora si alzò e andò da lui. Brandì il martello prontamente e con forza e lo colpì da sopra nel mezzo del cranio. Egli sentì che la punta del martello si conficcava nella testa in profondità. Ma in quel momento Skrimir si destò e disse. Che c'è ora? Mi è caduta sulla testa qualche ghianda. Che ti è successo Thor? Thor tornò indietro precipitosamente e rispose che si era appena svegliato. Disse che era mezzanotte ed era ancora tempo di dormire. Allora Thor pensò che se si fosse trovato nell'opportunità di sferrargli il terzo colpo quello non si sarebbe più ripreso. Ora stava coricato e faceva attenzione se Skrimir si addormentasse sodo. E poco prima del giorno sentì che Skrimir doveva essersi addormentato. Allora si alzò e balzò verso di lui. Brandì il martello con tutte le forze e colpì la tempia che era rivolta verso l'alto. Il martello si conficcò fino al manico. Ma Skrimir si mise a sedere. Si sfregò la tempia e disse. Ci sono forse degli uccelli sull'albero sopra di me. Mi è parso quando mi sono svegliato che un fruscello mi si è caduto sulla testa dai rami. Sei sveglio Thor? Deve essere tempo di alzarsi e vestirsi. Ora voi non avete più molta strada per la fortezza che si chiama Uthgarther. Io vi ho udito mormorare fra di voi che io non sono un uomo di piccola statura. Ma se arrivate a Uthgarther vedrete là uomini più grandi di me. Ora vi darò un buon consiglio. Non comportatevi con presunzione. I cortigiani di Uthgar d'Arlochi non sopporteranno facilmente le vanterie di simili bambocci. O altrimenti tornate indietro e io credo che per voi sia questa la scelta migliore da fare. Però se volete proseguire allora dirigetevi verso oriente. Ma adesso la mia strada va verso Settentrione. Verso quelle montagne che ora potete vedere laggiù. Scrimir prese il sacco delle provviste e se lo gettò sulle spalle e svoltò nella foresta allontanandosi da loro. E non è riferito che gli asi si augurassero di rivederlo. 46. Thor proseguì il cammino e con lui i suoi compagni e andarono avanti fino a mezzogiorno. Allora videro una fortezza ergersi su un pianoro e dovettero piegare indietro la nuca sulla schiena prima di riuscire a vederne la sommità. Andarono alla fortezza e davanti all'ingresso c'era un cancello ed era chiuso. Thor andò al cancello e non riuscì ad aprirlo. E quando essi si sforzarono per entrare nella fortezza strisciarono tra le sbarre e così entrarono. Videro poi una grande sala ed andarono là. La porta era aperta. Allora entrarono e là videro molti uomini su due panche e i più grandi a sufficienza. Subito dopo essi giunsero davanti al re Uthgarda Loki e lo salutarono. Ma egli si volse lentamente verso di loro. Sorrise sarcastico mostrando i denti e disse «E' tardi per domandare notizie quanto lungo è il cammino. Ma mi sbaglio se penso che questo ragazzo sia occupor. Tu devi essere più di quel che sembri. Ma in quale specialità tu e i tuoi compagni pensate di essere preparati? Non può rimanere qui fra noi chi non possegga un'arte o una capacità di qualche genere in misura superiore alla maggior parte degli uomini». Allora quello che era entrato per un attimo che si chiamava Loki disse «Io ho un talento che sono prontissimo a mettere alla prova. Che non c'è nessuno qui dentro che mangi il suo cibo più velocemente di me». Uthgarda Loki rispose «Questo è un talento se tu ci riesci e questo sarà allora messo alla prova». Chiamò sulla panca verso la porta quello che si chiamava Loki che venisse avanti al centro per mettersi alla prova contro Loki. Allora fu portato un vassoio, fu posto sul pavimento della sala e fu riempito di carne. Loki si sedette a un'estremità e Loki all'altra e ciascuno mangiò il più velocemente possibile e si incontrarono nel mezzo del vassoio. Allora Loki aveva mangiato tutta la carne ripulendo gli ossi ma anche Loki aveva mangiato tutta la carne e anche gli ossi e pure il vassoio e parve dunque a tutti che Loki avesse perso la gara. Uthgarda Loki domandò quale disciplina conoscesse il giovane. Pialfi disse che voleva misurarsi in una gara di corsa con chiunque Uthgarda Loki presentasse. Egli Uthgarda Loki disse che questa era una buona specialità e dichiarò che c'era ben da aspettarsi che fosse assai preparato nella velocità se voleva praticare questa specialità. Ma tuttavia affermò che ciò doveva essere prontamente messo alla prova. Poi Uthgarda Loki si alzò e uscì e là c'era uno spazio adatto per correre lungo un terreno pianeggiante. Uthgarda Loki chiamò a sé un ragazzo che aveva nome Uji e lo pregò di correre in gara con Pialfi. Essi fecero la prima corsa e Uji era tanto avanti che al traguardo si volse indietro incontro a lui. Allora Uthgarda Loki disse Bisogna Pialfi che ti sforzi di più se vuoi vincere la gara. Tuttavia è vero che qui non sono mai venuti degli uomini che mi siano parsi più lesti del piede di così. Poi fecero un'altra corsa e quando Uji giunse al traguardo e si voltò indietro c'era un lungo tiro di freccia da Pialfi. Uthgarda Loki disse Mi pare che Pialfi faccia bene la corsa ma ora non credo che vincerà la gara. Ma ora lo si metterà alla prova quando faranno la terza corsa. Allora essi fecero ancora una corsa ma quando Uji era arrivato al traguardo e si voltò indietro Pialfi non era ancora giunto a metà del percorso. Così tutti dissero che questa gara era esperita. Poi Uthgarda Loki domandò a Thor di quale talento egli volesse dar loro dimostrazione. Dal momento che gli uomini avevano composto grandi storie sulle sue straordinarie imprese. Thor affermò che ciò che preferiva era fare a gara nel bere con uno dei suoi uomini. Uthgarda Loki disse che ciò poteva andare bene. Rientrò nella sala e chiamò il suo coppiere e gli chiese di portare il corno da cui i cortigiani erano soliti bere per ammenda. Subito dopo venne avanti il coppiere con il corno e lo porse a Thor. Allora Uthgarda Loki disse. Da questo corno si considera ben bevuto se in una sorsata lo si finisce ma alcuni uomini lo vuotano in due sorsate. Tuttavia nessuno è bevitore così scarso che non lo finisca in tre. Thor guardò il corno e non gli parve grande ma magari piuttosto lungo. Egli era molto assetato, prese a bere e traccannò abbondantemente e pensò che non avrebbe avuto bisogno di chinarsi verso il corno più di una volta. Ma quando gli mancò il respiro sollevò lo sguardo dal corno e vide quanto era diminuita la bevanda. Gli parve che la differenza fosse assai piccola. Sebbene ora il livello di liquido nel corno fosse più basso di prima. Uthgarda Loki disse. Bene è bevuto ma non troppo. Non ci avrei creduto se mi fosse stato detto che Ascator non potesse bere un sorso più grande. Tuttavia so che vorrei vuotare tutto col secondo sorso. Thor non rispose, portò il corno alla bocca e pensò che ora avrebbe bevuto un sorso più grande e si sforzò nel bere fin quanto ebbe fiato. Vide tuttavia che la punta del corno non si alzava quanto avrebbe voluto. E quando si tolse il corno dalla bocca e guardò dentro gli parve che il livello della bevanda fosse sceso meno della prima volta. Ora tuttavia nel corno c'era un buon margine, fra il liquido e il bordo per chi lo recasse. Allora parlò Uthgarda Loki. Che cosa c'è Thor? Non vorrai risparmiarti per un unico sorso più di quanto tu sia in condizioni di bere. Mi pare che se ora dovrai bere dal corno il terzo sorso tu pensi che debba essere il più grande. Ma qui fra noi non potrai dirti uomo così grande come ti considerano gli asi. Se tu non ti distingui in altre discipline più di quanto mi pare che debba essere in questa. Allora Thor si adirò, portò il corno alla bocca e bevve con quanto più impeto poteva e si sforzò nel bere quanto più a lungo potè. E quando guardò nel corno aveva ottenuto una certa differenza. Allora diede via il corno e non volle più bere. Allora parlò Uthgarda Loki. È ora evidente che la tua forza non è così grande come credevamo. Ma vuoi tentare altre gare? Ora si vede che da questa non ne ricavi praticamente nulla. Thor rispose. Io posso tentare ancora qualche gara. Ma mi parrebbe strano se fossi a casa mia fra gli asi. Se sorsi come questi fossero considerati così scarsi. Ma quale gara volete ora propormi? Allora parlò Uthgarda Loki. Questa gara qui la fanno i ragazzi perché non sembra di grande importanza. Sollevare da terra il mio gatto. Ma io non oserei parlare così con Asapor se prima non avessi visto che tu sei assai meno valente di quanto credessi. Subito dopo un gatto grigio e piuttosto grosso balzò sul pavimento della sala. Thor si avvicinò, gli mise la mano sotto la metà del ventre e sollevò. Ma il gatto inarcava la schiena quanto Thor sollevava la mano. E quando Thor si protese tanto in alto quanto poteva distendersi allora il gatto sollevò una zampa. E Thor non riuscì a concludere positivamente quella gara. Allora parlò Uthgarda Loki. Questa gara è andata come mi aspettavo. Il gatto è piuttosto grosso ma Thor è basso e piccino in confronto ai grandi uomini che sono qui fra noi. Allora Thor disse così piccolo come voi mi considerate. Ebbene venga avanti chiunque si batta con me. Ora sono furioso. Uthgarda Loki rispose e si guardò attorno sulle panche e disse io non vedo qui dentro un uomo che non consideri una bazzecola battersi con te. E aggiunse vediamo però chiamatemi qui la vecchia la mia balia è lì e Thor se vuole si batta con lei. Ella ha abbattuto uomini che non mi parevano meno forti di quanto è Thor. Subito dopo entrò nella sala una donna assai vecchia. Uthgarda Loki disse che ella doveva fare una lotta con Asapor. Non occorre farla lunga. Così andò quella lotta. Che quanto più duramente Thor si sforzava nella lotta tanto più salda stava lei. Poi la vecchia cominciò a piazzare i suoi colpi e Thor perse l'equilibrio. Gli strattoni furono violentissimi e non durò a lungo prima che Thor cadesse su un ginocchio. Allora venne avanti Uthgarda Loki. Ordinò di cessare la lotta e disse che Thor non aveva bisogno di sfidare altri uomini a battersi nella sua sala. Intanto era sopraggiunta la notte. Uthgarda Loki mostrò a Thor e i suoi compagni un posto a sedere e rimasero là per la notte con buona ospitalità. 47 E al mattino appena fece giorno Thor e i suoi compagni si alzarono si vestirono ed erano pronti ad andare via. Allora venne Uthgarda Loki e fece preparare loro la tavola e non mancò buona ospitalità cibo e bevande e quando essi ebbero mangiato si misero in viaggio. Uthgarda Loki li accompagnò fuori e uscì con loro dalla fortezza. Ma al momento di separarsi Uthgarda Loki parlò con Thor e gli domandò come gli pareva fosse andato il suo viaggio e se egli avesse incontrato qualche uomo più potente di lui. Thor disse di non poter negare di aver subito un grande disonore nel loro incontro. E tuttavia so che voi mi considererete uomo da poco e ciò mi dispiace. Allora Uthgarda Loki parlò. Ora che sei uscito dalla fortezza io ti dirò la verità. Che se io viva e possa decidere tu mai più potrai entrarvi. E io so in fede mia che tu non saresti mai entrato se io avessi saputo prima che hai in te una forza così grande e che ci avresti messo in una situazione di così grave pericolo. Ma io ti ho preparato delle illusioni ottiche. Così la prima volta che ti ho incontrato nella foresta io ero venuto a cercarvi. E quando tu dovevi disfare il sacco delle provviste io lo avevo legato con ferro magico e tu non trovasti dove disfarlo. E subito dopo tu mi hai inferto con il martello tre colpi. E il primo fu il minore e tuttavia fu talmente forte che mi avrebbe portato a morte se fosse arrivato a segno. Ma là dove hai visto accanto alla mia sala una sella montuosa sotto la quale vedesti tre valli quadrate di cui una più profonda quelli erano i segni del tuo martello. Quella sella mostruosa io usai al riparo dei colpi ma tu non la vedesti così fu anche delle gare in cui competeste con i miei cortigiani. La prima fu quella che fece Loki. Egli era molto affamato e mangiò avidamente. Ma quello che si chiama Logi quello è il fuoco violento e bruciò a un tempo il vassoio e la carne. E quando Pialfi pareggiò nella corsa con quello che si chiamava Ugi quello era il mio pensiero e non ci si poteva aspettare che Pialfi competesse in velocità con lui. E quando tu bevesti dal corno e ti pareva che calasse lentamente io so in fede mia che quello fu un portento che non credevo potesse essere. L'altra estremità del corno era largo nell'oceano ma tu non la vedevi e ora quando arriverai al mare potrai vedere quale decremento ne hai provocato bevendo. Queste ora si chiamano maree. E ancora egli parlò. A me non parve meno notevole quando tu sollevasti il gatto. E per dirti la verità tutti quelli che videro che gli alzavi da terra una zampa furono spaventati. Quel gatto non era ciò che sembrava. Esso era il serpe di Midgard che cinge tutte le terre e la sua lunghezza gli fu a malapena sufficiente perché la coda e la testa toccassero la terra. Tu ti protendesti intanto su che mancava poco al cielo e anche fu compiuto un grande prodigio quando resistesti così a lungo e non cadesti se non su un ginocchio solo nella lotta che facesti con elli. Poiché nessuno seppure la vecchiaia lo attenda è divenuto o diverrà così vecchio che essa non arrivi per tutti a farli cadere. E ora occorre dire in verità che noi dobbiamo separarci e sarà meglio per entrambi che voi non veniate più a trovarmi. Un'altra volta di nuovo io difenderei la mia fortezza con tali stratagemmi o altri ancora così che voi non possiate avere alcun potere su di me. E quando Thor udì queste parole afferrò il martello e lo brandì per aria ma quando stava per scagliarlo non vide più Utgard all'occhi. Allora si volse indietro verso la fortezza e pensò di distruggerla. Vide però dei campi ampi e belli ma nessuna fortezza. Egli dunque si volse indietro e proseguì il cammino finché giunse di nuovo a Pruthwagnar. Ma occorre dire in verità che aveva deciso dentro di sé di cercare se poteva avere incontro con il serpe di Midgard come in seguito avvenne. Ora io credo che nessuno possa raccontarti in modo più veritiero questo viaggio di Thor. 48. Allora parlò Gangleri. Assai potente è Utgard all'occhi e con stratagemmi e magia ottiene molto. Si può vedere che è assai grande dal momento che i suoi cortigiani possedevano grande potere. Ma forse che Thor non si è vendicato di questo. Har rispose anche agli uomini che non sono istruiti non è ignoto che Thor ebbe soddisfazione del viaggio di cui ora si è detto. Egli non indugiò a lungo a casa prima di prepararsi a un altro viaggio e tanto in fretta che non aveva carro né capri né compagni. Egli uscì da Midgard con l'aspetto di un ragazzo e una sera a calar del giorno giunse da un gigante, quello che ha nome Ymir. Thor si fermò là per trascorrere la notte ma all'alba Ymir si alzò e si vestì e si preparò per uscire in mare e pescare. Thor balza su e fu subito pronto e chiese che Ymir gli permettesse di uscire in mare con lui. Ymir però disse che poco aiuto gli sarebbe venuto perché egli era piccolo e un ragazzo. E ti verrà freddo se io mi fermo tanto a lungo e così a largo come sono abituato. Ma Thor disse che poteva remare così lontano dalla riva che non era certo che dovesse per primo chiedere di remare verso terra. E Thor si infuriò con il gigante al punto che stava quasi per fargli risuonare il martello addosso. Ma si trattenne perché pensava di dimostrare la sua forza in un altro posto. Egli domandò a Ymir che cosa avrebbe usato per esca. Ymir gli ordinò di trovarsi l'esca da solo. Allora Thor si volse verso il luogo in cui aveva visto una mandria di buoi che Ymir possedeva. Egli prese il bue più grande che si chiamava Ymin-Ryothr. Gli staccò la testa e la portò con sé in mare. Ymir aveva allora spinto in acqua l'imbarcazione. Thor salì a bordo e si sedette nel posto dove si aggrotta. Prese due remi e vogò. E a Ymir pareva che il loro avanzare dipendesse dalla sua vogata. Ymir remava davanti sulla prua e il vogare procedeva velocemente. Poi Ymir disse che erano giunti in quei banchi di pesca in cui egli era solito fermarsi a pescare le sogliole. Ma Thor affermò che voleva remare molto più in là e diedero ancora una spinta con i remi. Allora Ymir disse che essi erano arrivati così a largo che era pericoloso andare oltre per via del serpe di Midgard. Ma Thor affermò che avrebbero remato ancora un po'. E così fece. Ymir era molto abbattuto. E quando Thor tirò su i remi egli preparò una lenza piuttosto robusta e l'amo non era più piccolo o meno resistente. Là Thor infilzò sul lamo la testa del bue e la gettò fuori bordo. E l'amo arrivò sul fondo. E bisogna dire in verità che Thor non gabbò di meno il serpe di Midgard di quanto Husgard all'occhi avesse beffato lui quando egli ebbe sollevato il serpe con la mano. Il serpe di Midgard spalancò la bocca verso la testa del bue. Ma l'amo gli si conficcò nel palato e quando il serpe se ne accorse strattonò con tale violenza che entrambi i pugni di Thor diedero un colpo sul bordo dell'imbarcazione. Thor si infuriò e fu preso dalla potenza divina. Puntò i piedi con tale forza che con entrambi trapassò l'imbarcazione e si puntò sul fondo. Allora tirò il serpe fino al bordo e si può dire che uno non ha visto uno spettacolo spaventoso se non abbia potuto vedere come Thor trafisse con gli occhi il serpe e come il serpe lo fissava di contro dal basso e sputava veleno. È detto che allora il gigante Ymir cambiò colore in pallidì e si spaventò quando vide il serpe che il mare si rovesciava fuori e dentro l'imbarcazione. E nell'istante in cui Thor afferrò il martello e lo levò in aria il gigante armeggiando prese il coltello per le esche e mozzò la lenza di Thor sul bordo. E il serpe sprofondò nel mare. Thor gli gettò dietro il martello e taluni dicono che gli staccò la testa sul fondo ma io credo di doverti dire in verità che il serpe di Midgard ancora vive e giace nell'oceano. Ma Thor vibrò un pugno e lo piazzò sull'orecchio a Ymir così che egli sprofondò fuori bordo e si videro le piante dei suoi piedi. Poi Thor guardò fino a riva. 49. Allora parlò Gangleri. Sono avvenuti altri eventi importanti fra gli asi. Un'impresa assai grande compì Thor in questo viaggio. Har rispose ci dovrà parlare di quegli avvenimenti che gli asi parvero i più importanti. L'inizio di questa storia è che Baldr il buono fece dei sogni gravi e pericolosi a riguardo della sua vita e quando egli riferì i sogni agli asi essi tennero consiglio e fu deciso di richiedere una salvaguardia per Baldr contro ogni tipo di pericolo. E Frigger raccolse giuramenti in proposito che avrebbero risparmiato a Baldr il fuoco e l'acqua, il ferro e ogni tipo di metallo, le pietre, la terra, gli alberi, le malattie, gli animali, gli uccelli, il veleno, le serpi. E quando questo fu fatto e confermato allora era passatempo di Baldr e degli asi che egli stava in piedi nell'assemblea e tutti gli altri dovevano alcuni gettargli qualcosa, altri colpirlo, altri scagliare delle pietre. Ma qualunque cosa fosse fatta egli non ne riceveva danno e ciò pareva a tutti una grande fortuna. Ma quando Loki, figlio di Lofri, vide questo gli dispiacque che Baldr non ricevesse alcun danno. Egli andò a Fensalir da Frigg e si trasformò assumendo l'aspetto di una donna. Frigg domandò se quella donna sapesse che cosa facevano gli asi nell'assemblea. Ella disse che tutti tiravano qualcosa contro Baldr e che egli non riceveva danno alcuno. Allora Frigg disse «Le armi e i legni non faranno del male a Baldr, io ho ricevuto giuramenti da tutti loro». La donna domandò «Hanno tutte le cose e prestato giuramento di risparmiare Baldr?» Frigg rispose «A occidente del Valhalla cresce un germoglio che si chiama Vischio. Esso mi parve giovane per richiedere il giuramento». Subito dopo la donna si dileguò, ma Loki prese il Vischio e lo sradicò e andò nell'assemblea. Hothr stava al di fuori del cerchio degli uomini perché era cieco. Loki parlò con lui «Perché non tiri qualcosa contro Baldr?» Egli rispose «Perché non vedo dove Baldr sta e anche perché sono senza arma». Allora Loki disse «Fai tuttavia al modo degli altri e rendi onore a Baldr come le altre persone. Io ti indicherò dove sta. Gettagli questo ramoscello». Hothr prese il Vischio e lo gettò a Baldr secondo le istruzioni di Loki. Il dardo lo trapassò ed egli cadde a terra morto. E questa è stata la più grande sciagura avvenuta fra gli dèi e agli uomini. Quando Baldr fu caduto tutti gli asi rimasero senza parole e quasi senza mani per sollevarlo. E ciascuno guardava l'altro e tutti avevano il medesimo pensiero verso chi aveva compiuto quell'azione. Ma nessuno poteva vendicarsi. Quello era infatti un grande santuario. E quando gli asi tentarono di parlare, venne loro prima piuttosto da piangere, sicché nessuno poteva esprimere all'altro con parole il proprio dolore. Ma Odino soffriva per quella disgrazia nella peggior misura, poiché egli aveva chiara cognizione di quale grande perdita e danno fosse per gli asi la morte di Baldr. E quando gli dèi ripresero i sensi, allora Frigg parlò. E domandò chi fra gli asi volesse guadagnarsi tutto il suo amore e favore e volesse cavalcare sulla via di Hel e tentare, se potesse, trovare Baldr e offrire a Hel un riscatto. Se ella volesse lasciar tornare Baldr a casa in Asgard. E quello che si chiama Hermothr, il gagliardo, figlio di Odino, si offerse per questo viaggio. Allora fu preso Sleipnir, il cavallo di Odino, e fu condotto là e Hermothr montò su questo cavallo e galoppò via. Ma gli asi presero il cadavere di Baldr e lo portarono in mare. La nave di Baldr si chiamava Ringorni. Essa era la più grande di tutte le navi. Gli dèi volevano spingerla sull'acqua e fare là il funerale di Baldr. Ma la nave non avanzava. Allora mandarono a cercare in Jotunheimer quella gigantessa che si chiamava Hirrokin e quando ella arrivò cavalcava un lupo e aveva serpi velenose per briglie. Ella balzò giù dalla cavalcatura e Odino chiamò quattro berserkir per fare la guardia alla cavalcatura, ma non poterono tenerlo fermo finché non lo abbatterono. Hirrokin andò al dritto di prua dell'imbarcazione e la spinse avanti al primo scossone, così che sprizzò fuoco dai rulli e tutte le terre tremarono. Allora Thor si infuriò e afferrò il martello e le avrebbe fracassato la testa se tutti gli dèi non avessero chiesto grazie a lei. Poi il cadavere di Baldr fu portato fuori sulla nave e quando sua moglie Nanna, figlia di Nepr, vide questo schiantò dal dolore e morì. Ella fu posta sulla pira e fu appiccato il fuoco. Thor stette là e consacrò la pira con Mjolnir, ma davanti ai suoi piedi corse un nano, quello che aveva nome Litr. Thor gli diede un calcio col piede e lo gettò nel fuoco ed egli bruciò. A questa cremazione venne una folla di ogni genere. Innanzitutto occorre dire di Odino che con lui andò Frigg e le Valkyrie e i suoi corvi. E Freyr andò nel carro con quel verro che si chiamava Gullimbursti o Slithrugtanni. E Eimdallr cavalcò il cavallo che si chiama Gulltopr e Freya guidò i suoi gatti. Là venne anche una grande folla di giganti della brina e giganti delle montagne. Odino pose sulla pira l'anello d'oro che si chiama Draupnir. Da allora esso acquisì la virtù che ogni nove notti ne sgocciolavano otto anelli d'oro di pari peso. Il cavallo di Baldor fu condotto alla pira con tutti i suoi finimenti. Di Ermothr occorre dire che egli cavalcò nove notti per oscure e profondi. Tanto che non vide nulla finché arrivò al fiume Gjöl e cavalcò su Gjallarbrú. Esso è ricoperto di oro splendente. Mothgúther si chiama la vergine che sta di guardia al ponte. Ella gli domandò il nome e la stirpe e disse che il giorno precedente avevano cavalcato sul ponte cinque schiere di uomini morti. Ma il ponte non rimbomba? Meno sotto di te solo. E tu non hai il colore degli uomini morti? Perché cavalchi qui sulla via di Hel? Egli rispose io devo cavalcare da Hel per cercare Baldor. Ma tu hai visto per caso Baldor passare sulla via di Hel? E lei disse che Baldor aveva cavalcato sul ponte di Gjöl. Ma la via di Hel si trova verso il basso e verso settentrione. Allora Hermothr cavalcò finché giunse ai cancelli di Hel. Scese da cavallo e allacciò saldamente la sella. Montò su e diede di sprone. E il cavallo saltò con tale forza oltre il cancello che non lo sfiorò neppure. Poi Hermothr cavalcò verso la sala e scese da cavallo. Entrò nella sala. Vide là seduto nel sedile d'onore Baldor, suo fratello. E Hermothr si trattenne là per la notte. Ma al mattino Hermothr chiese a Hel che Baldor cavalcasse a casa con lui. E disse quanto grande era il pianto fra gli asi. Ma Hel disse che si doveva provare se Baldor era così amato da tutti come si diceva. E se tutte le cose nel mondo, vive o morte, lo piangono, allora egli tornerà dagli asi. Ma sarà trattenuta da Hel se qualcuno sarà contrario o non vuole piangere. Allora Hermothr si alzò. E Baldor lo condusse fuori dalla sala e prese l'anello Draupnir e lo mandò a Odino per ricordo. E Nanna mandò a Frigg un telo di lino e ancora altri doni. A Fulla un anello d'oro. Poi Hermothr cavalcò indietro per la strada e giunse in Asgarthr e disse di tutti i fatti che aveva visto e udito. Subito dopo gli asi mandarono dei messaggeri per tutto il mondo a chiedere che Baldor fosse pianto perché potesse venire via da Hel. E tutti fecero ciò. Gli uomini e gli animali e la terra e le pietre e gli alberi e tutti i materiali al modo in cui devi aver visto che queste cose piangono quando passano dal freddo al caldo. Quando i messaggeri tornavano indietro e avevano ben compiuto il loro incarico, essi trovarono che in una caverna c'era una gigantessa e là si chiamava Pok. Essi la pregarono di piangere Baldor perché potesse venire via da Hel. E là disse Pok piangerà lacrime asciutte per il funerale di Baldor, né da vivo né da morto. Io ebbi vantaggio dal figlio dell'uomo. Si tenga Hel ciò che ha. E si suppone che là ci fosse Loki, figlio di Lofri, che ha commesso la maggior parte del male fra gli Asi. 50 Allora parlò Ganglerio. Cose molto gravi ha compiuto Loki. Egli che dapprima fece in modo che Baldor fosse ucciso e poi anche che non fosse riscattato da Hel. Ma ci si vendicò in qualche modo di lui. Har disse. Gli fu fatta pagare in un modo che a lungo se ne ricorderà. Quando gli dèi si furono adirati con lui quanto c'era da attendersi, egli scappò via e si nascose su una montagna. Là costruì una casa con quattro porte in modo che dalla casa si potesse vedere tutte le direzioni. E spesso durante il giorno si trasformava assumendo l'aspetto di un salmone e poi si nascondeva nel luogo che chiamano Franansgrfors. Allora pensava a quale stratagemma gli Asi potessero trovare per catturarlo nella cascata. E una volta, mentre se ne stava seduto nella casa, prese il filo di lino e intrecciava delle maglie, al modo in cui in seguito sono state fatte le reti e il fuoco ardeva davanti a lui. Allora vide che gli Asi erano ormai vicini a lui, poiché Odino, dall'Itschialf, aveva visto il luogo in cui egli si trovava. Balzò subito su e via verso il fiume e gettò la rete sul fuoco lì davanti. E quando gli Asi giunsero alla casa, entrò per primo quello che era più saggio di tutti, che si chiamava Kvasir. E quando vide nel fuoco la cenere chiara della rete che era bruciata, capì che quello doveva essere uno strumento per prendere i pesci. E lo disse agli Asi. Subito dopo, essi si misero a fare per sé una rete sul modello di quella che vedevano nella cenere e che Loki aveva fatto. E quando la rete fu pronta, gli Asi andarono al fiume e gettarono la rete nella cascata. Thor teneva un capo della rete e tutti gli Asi tenevano l'altro e tirarono la rete. Ma Loki nuotava davanti e si rintanò fra due pietre. Essi tirarono la rete sopra di lui e sentirono che là c'era qualcosa di vivo. Andarono una seconda volta alla cascata e gettarono la rete e vi assicurarono dei pesi tali che nulla potesse passarci sotto. Allora Loki nuotò davanti alla rete, ma quando vide che mancava poco al mare, saltò su oltre il bordo e risalì velocemente la cascata. Ora gli Asi videro dov'era andato. Tornarono ancora alla cascata e divisero in due il gruppo. Thor precedeva a guado nel mezzo del fiume e così andarono verso il mare. Allora Loki vide due alternative. C'era pericolo di vita a saltare nel mare, ma l'altra era saltare di nuovo oltre la rete. Ciò egli fece. Saltò il più velocemente possibile oltre il bordo della rete. Thor cercò di agguantarlo e lo afferrò, ma egli gli scivolò nella mano, sicché la mano lo trattenne sulla coda. Ed è per questo che il salmone è assottigliato nella parte posteriore. Ora Loki era catturato senza condizioni e fu condotto in una caverna. Essi presero tre lastre di pietra e le rizzarono sul bordo e praticarono un foro in ciascuna. Poi furono presi i figli di Loki, Vali e Nari o Narfe. Gli Asi trasformarono Vali in aspetto di lupo. Ed egli dilanò Narfe, suo fratello. Allora gli Asi presero le sue budella e con esse legarono Loki sulle tre pietre appuntite. Una sta sotto le spalle, la seconda sotto i lombi e la terza sotto i garetti. E quei legami divennero di ferro. Poi Scalzi prese una serpe velenosa e la legò sopra di lui in modo che il veleno gocciolasse dalla serpe sul suo volto. Ma Sigin, sua moglie, sta in piedi accanto a lui e tiene un bacile sotto le gocce di veleno. Ma quando il bacile è pieno, ella va a vuotare via il veleno. E nel frattempo il veleno gli gocciola sul volto. Allora sussulta così violentemente che tutta la terra trema. Questo voi lo chiamate terremoto. Là egli resterà in catene fino al crepuscolo degli dèi. 51. Allora parlò Gangleri. Quali notizie ci sono da dire riguardo al crepuscolo degli dèi? Di questo io non ho mai sentito parlare prima. Ar disse. Di questo ci sono da dire molte e importanti cose. Innanzitutto che verrà quell'inverno che è chiamato Fimbulvetr. Allora la neve turbinerà da tutte le direzioni del cielo. Ci saranno grandi gelate e venti pungenti. Non si godrà del sole. Tre inverni verranno insieme e niente estate di mezzo. Ma prima verranno altri tre inverni durante i quali in tutto il mondo ci saranno grandi battaglie. I fratelli si uccideranno per Cupidigia e nessuno avrà rispetto per il padre o il figlio nell'assassinio o nell'incesto. Così dice nella predizione dell'indovina. I fratelli si combatteranno e si daranno la morte. I cugini violeranno i legami della stirpe. Dura sarà fra gli uomini. Grande la dissolutezza. Era di asce. Era di spade. Si fenderanno gli scudi. Era di venti. Era di lupi. Prima che il mondo rovini. prima che il mondo rovini. Allora accadrà quello che parrà un grande evento. Che il lupo ingoglierà il sole e ciò parrà agli uomini una grande sventura. L'altro lupo catturerà la luna e anche esso provocherà un grande disastro. Le stelle scompariranno nel cielo. Avverrà pure che tutta la terra tremerà. E così le montagne. Tanto che gli alberi si sradicheranno dalla terra e le montagne crolleranno e tutte le catene e i legami si spezzeranno e si infrangeranno. Allora il lupo Fenrir sarà libero. Poi l'oceano si rovescerà sulle terre perché il serpe di Midgard sarà preso dalla furia dei giganti e raggiungerà la terra. Avverrà anche che Nagelfar sarà sciolta dagli ormeggi. La nave che così si chiama. Essa è fatta con le unghie degli uomini morti ed è per questo che occorre stare in guardia se un uomo muore con le unghie non tagliate. Perché quest'uomo aggiunge molto materiale alla costruzione della nave Nagelfar. Che gli uomini e gli dèi vogliono sia pronta tardi. E in questo mare in tempesta Nagelfar avanzerà. Rimir si chiama il gigante che guida Nagelfar. Il lupo Fenrir avanzerà con la bocca spalancata, la mascella superiore contro il cielo e quella inferiore contro la terra. Esso la spalancherebbe di più se ci fosse spazio. Fuochi divamperanno dai suoi occhi e dalle sue narici. Il serpe di Midgard soffierà tanto veleno che schizzerà tutta l'aria e l'acqua e sarà davvero spaventoso e starà a fianco del lupo. In questo frastuono si fenderà il cielo e di là cavalcheranno i figli di Muspel. Surtr cavalcherà per primo e davanti e dietro di lui ci saranno fuochi ardenti. La sua spada è molto buona ed essa irradia più splendore del sole. E quando essi cavalcheranno sopra Bifrost, esso andrà in pezzi, come prima è stato detto. I figli di Muspel avanzeranno su questa piana che ha nome Vigrithr. La verrà anche il lupo Ferrir e il serpe di Midgard e Ivi sarà anche allora anche Loki e il Rimir e con lui tutti i giganti della Brina. Ma Loki seguiranno tutti i compagni di Hel e i figli di Muspel da soli formeranno una legione e sarà assai luminosa. La piana di Vigrithr misura cento miglia in ogni direzione. E quando questi avvenimenti accadranno, Heimdallr sorgerà e soffierà con forza in Gjallarhorn ed esterà tutti gli dèi ed essi si riuniranno in assemblea. Allora Odino cavalcherà alla fonte di Mimir e prenderà consiglio da Mimir per sé e per i suoi. Il frassino Idrassil si scuoterà e nulla sarà allora senza terrore in cielo o sulla terra. Gli asi indosseranno l'armatura e così tutti gli Eneriar avanzeranno sul campo. Odino cavalcherà per primo con l'elmo d'oro e la bella corazza e la lancia che si chiama Gungnir. Egli si dirigerà verso il lupo Fenrir ma Thor avanzerà al suo fianco e non potrà essergli d'aiuto perché dovrà combattere una lotta senza quartiere con il serpe di Mimir. Fenrir si batterà contro Surter e sarà un duro scontro prima che Freyr cada. Causa della sua morte sarà che gli manca la buona spada che diede a Schirnir. Allora sarà libero anche il cane Garmr che sta legato davanti a Gnipa Hellir. Questo è il mostro più grande. Esso combatterà contro Tyr e ciascuno darà all'altro la morte. Thor ucciderà il serpe di Midgard e si allontanerà di là nove passi. Poi cadrà morto a terra per il veleno che il serpe gli avrà soffiato addosso. Il lupo ingoierà Odino e quella sarà la sua morte. Ma subito avanzerà Vitar e porrà un piede sulla mascella inferiore del lupo. Su quel piede egli avrà quella calzatura che è stata messa insieme in tutte le ere. Sono i ritagli triangolari di pelle che gli uomini tagliarono via dalle proprie scarpe all'alluce o alla caviglia. Perciò dovrà gettar via quei ritagli l'uomo che intenda venire in aiuto degli asi. Con l'altra mano egli afferrerà la mascella superiore del lupo e gli spezzerà la bocca. E questa sarà la morte del lupo. Loki si scontrerà con Eimdall e ciascuno darà la morte all'altro. Subito dopo Surtr appiccherà il fuoco alle terre e tutto il mondo brucerà. Così è detto nella predizione dell'indovina. Alto soffia Eimdall, il corno elevato nell'aria. Odino parla con la testa di Mimir. Si scuote Iggdrasil, frassino eterno. Rumoreggia l'albero antico e il gigante è libero. Che c'è fra gli asi? Che c'è fra gli elfi? Rumoreggia tutto Jotunheimer. Gli asi tengono l'assemblea. Gemono i nani davanti alle porte di pietra, conoscitori delle rocce scoscese. E voi ne sapete di più? Rimir avanza da oriente. Regge davanti lo scudo. Jormungandr è preso dalla furia dei giganti. Il serpe agita le onde. L'aquila emette il grido. Pallida come la luna calante di Lania ai cadaveri. Nalgfar è sciolta. Una chiglia procede da oriente. Verranno di muspe leggenti sul mare. Loki la guida. Ecco la genia dei mostri insieme. Tutti. Col lupo. Con loro è il fratello. Di Bileister è il viaggio. Surtr procede da Meridione con la rovina dei Virgulti. Risplende dalla spada il sole degli dei guerrieri. I macigni precipitano con fragore e crollano le gigantesse. Gli uomini percorrono Elvegr e il cielo si squarcia. Allora viene per Hlyn un altro dolore quando Odino va a combattere col lupo. E l'uccisione di Beli, luminoso, contro Surtr. La dovrà Frigg la gioia soccombere. Va il figlio di Odino a combattere col lupo. Vithar combatte con la belva che si nutre di cadaveri. Egli ha il figlio di Vethrung. Con la mano conficcherà la spada fino al cuore. Allora sarà vendicato il padre. Avanza il famoso figlio di Ilhodin, vacillante a causa del serpe, che non teme l'atto infame. Tutti gli uomini dovranno abbandonare la dimora terrena, quando con furore colpirà il difensore di Midgard. Il sole si oscurerà, la terra sarà sommessa dal mare, scompariranno del cielo le chiare stelle. Infurierà il fumo e quello che alimenta la vita. Alte le fiamme giocheranno con il cielo stesso. E qui dice ancora così. Vigrithr si chiama il campo, dove si daranno la battaglia Surtr e gli dèi benigni. Cento miglia si stende da ogni parte. Quello è il campo loro destinato. 52. Allora parlò Gangleri. Che cosa avverrà dopo che il cielo sarà bruciato e così la terra e tutto il mondo e tutti gli dèi saranno morti e così tutti gli Einiar e anche tutta la popolazione umana. Non avete detto prima che ciascun uomo vivrà in eterno in qualche modo? Allora rispose Prithi. Molti saranno i luoghi buoni e molti quelli cattivi. Il migliore per viverci sarà Gimle nel cielo, ma un luogo ottimo per buone bevute, per coloro che in ciò provano piacere. Sarà in quella sala che si chiama Brimir. Essa sta in Okolnir. Una buona sala è anche quella di Nithafiul, fatta di oro rosso. Questa si chiama Sindri. In quelle sale abiteranno gli uomini buoni e virtuosi. In Nastrandir c'è una grande sala a sinistra, la cui porta volge a Settentrione. Essa è tutta in tessuta di dorsi di serpi come una capanna fatta di vimini. Ma tutte le teste delle serpi guardano dentro la casa e soffiano veleno, così che lungo le sale scorrono fiumi di veleno e quei fiumi guadano gli spergiuri e gli assassini. Così come qui dice. Io so che c'è una sala lontano dal sole a Nastrand. La porta volge a Settentrione. Cadono gocce di veleno dallo sfiatatoio. Quella sala è intrecciata con dorsi di serpi. L'agua deranno correnti melmose, gli uomini spergiuri e gli assassini. Ma in Fergelmir sarà peggio. Là Nithogr tormenta i dei trapassati. 53. Allora parlò Gangleri. Vivranno forse allora alcuni dei e ci sarà una terra o un cielo. Har disse. La terra emergerà dal mare e sarà verde e bella. Allora cresceranno campi non seminati. Bizar e Vali vivranno poiché né il mare né il fuoco di Surtr li avranno danneggiati. Ed essi abiteranno a Itha Woller. Là dove prima c'era Askerther. E là verranno i figli di Thor, Miozi e Magni. E possiederanno Mjolnir. Subito dopo verranno Baldr e Other da Hel. Si siederanno allora tutti insieme e converseranno e si ricorderanno delle loro rune e parleranno degli avvenimenti avvenuti un tempo, dal serpe di Midgard e del lupo Fenrir. Allora troveranno fra l'erba le tavole d'oro che gli Asi avevano posseduto. Così è detto. Vizar e Vali abiteranno il santuario degli dei, quando si estinguerà il fuoco di Surtr. Modi e Magni possederanno Mjolnir di Vingnir quando saranno cessate le battaglie. E là, nel luogo che si chiama Bosco di Odmimir, si nasconderanno, mentre divamperà il fuoco di Surtr, due esseri umani che si chiamano Lif e Leif Prasir e avranno per nutrimento le gocce di ruggiata del mattino. E da questi esseri umani verrà una stirpe così numerosa che tutto il mondo sarà popolato, così come qui dice. Lif e Leif Prasir, essi si nasconderanno nel bosco di Odmimir. Le gocce di ruggiata del mattino avranno per nutrimento e di là cresceranno le stirpi. E questo ti parrà meraviglioso, che la divinità del sole avrà generato una figlia non meno bella di lei. E questo percorrerà i sentieri di sua madre, come qui dice. Una figlia genera al Father, prima che Ferrer giunga. Questa fanciulla cavalcherà quando gli dèi morranno sui sentieri della madre. Ma ora, se tu sei in grado di fare delle domande, io non so da dove te ne venga la capacità, poiché non ho udito alcuno dire di più sul corso dei tempi. Tra i beneficio da ciò che hai appreso. 54. Subito dopo, Gangleri udì un gran rimbombare d'ogni parte vicino a lui, e si volse di qui e di là. Ma quando si guardò attorno con più attenzione, si accorse che stava all'aperto, su un terreno pianeggiante, e non vide alcuna sala, né alcuna fortezza. Allora si mise in viaggio, e ritornò a casa nel suo regno, e riferì i fatti che aveva visto e udito. E dopo di lui, ognuno ha raccontato a un altro queste storie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.